Buon pomeriggio. A breve dovrebbe esserci lo splashdown dell'Oryon, ma non ho ben capito a che ora esattamente. Non ho ben capito a capire questa cosa. Fatemi controllare. Magari su YouTube della NASA c'è qualcosa di attendibile. Alle 17 dovrebbe esserci lo splashdown tra 88 minuti e potremmo vederlo in diretta insieme, eventualmente. Fatemi vedere se posso già impostare un Chrome, per esempio. Ok, scomparso. Trasforma, repristina, trasformazione. Non si può fare. Trasforma. Aratta lo schermo. Ok. Diciamo di prendere la... Questa. Ok. E la riduciamo così. Tac. Poi quando sarà il momento la vediamo direttamente qua davanti. La rifacciamo un po' più grande. Una cosa del genere. Quando sarà il momento dovrebbe arrivarmi una notifica così lo vediamo insieme. Perché no? Perché no? Perché no? Allora, fatemi preparare la mia parte di Twitch. Così vedo anche la chat e tutto quanto. Ok. Ora ci sono. Se avete scritto qualcosa nel frattempo non l'ho visto. Adesso dovrei vedere tutto. Benvenuti. Ci siamo. Inizio a partire. Ah, no. Aspetta, 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 aspetta. Indietro. Fatemi modificare impostazioni di parallax. Perché c'è parallax più che altro. Dettaglio terreno. Alto. Applica. Forse devo andare a fare delle modifiche da qualche altra parte. Ah, dettaglio shader terreno. Ok. Non ultra ma alto. Ok. Applica. Questo dovrebbe andare ad alleggerire un attimino parallax che effettivamente è un po' aggressivo. Oggi dovremmo riportare a casa quelli che sono fermi su duna. Quindi deve essere una missione abbastanza rapida. Dovremmo costruire qualcosa che sia in grado di risalire e poi, mamma mia, e tornare direttamente su Kerbin senza grossi problemi. Sono due scienziati. Ah, però dobbiamo portare a qualcosa che possa trasferire anche gli esperimenti, quei pochi che ci ha fatto fare. Così da portare un po' di punti scienza. Ovviamente non possiamo più tornare su duna a fare cose perché non ci dà più scienza. Concettualmente. Dobbiamo spostarci da qualche altra parte. Sarebbe interessante mandare qualche probe o dell'equipaggio su Elu, intorno perlomeno un flyby di Elu, un flyby di Joule anche, o di Dress, che non è tanto distante. Dress tra l'alto per essere raggiunto ha bisogno di una discreta inclinazione perché non è proprio equatoriale. È un bel po' di carburante, un bel po' di delta V. Vediamo cosa possiamo fare. Allora, andiamo qua, assemblaggio veicoli. Allora, i nostri due cosi sono la con il rover. O li mettiamo al laboratorio scientifico lì vicino e ci potrebbe stare che loro rimangono lì. Dobbiamo solo far atterrare al laboratorio scientifico e basta. Come se fosse una base permanente per Duna. Buon pomeriggio Pilato Eroica, buon pomeriggio. Oppure li portiamo a casa direttamente. Potrebbe essere una soluzione quella di lasciare giù un laboratorio. Non sarebbe poi così brutta come cosa. Per fare un laboratorio dovremmo capire anche come farlo atterrare. Il metodo di prima, che abbiamo attuato quando siamo arrivati con l'ender, che è stato un atterraggio all'ultimo secondo. I paracadute non si sono aperti subito perché siamo arrivati piuttosto veloci. C'era poco carburante. Però il metodo della discesa verticale, poi, puff, il girarsi sul lato non è male. Bisogna bilanciare molto bene il mezzo e evitare, appunto, sbilanciamenti strani. Teoricamente dovrei avere sbloccato... No, l'endingria è grossa e non ce l'ho. Quindi devo fare una roba piuttosto piccola. Il laboratorio non sarebbe male. Come... Come idea. Dobbiamo mettere di... Una cupola. Tra l'altro... Ho tolto l'anti-erasing. Eh, la cosa non mi piace perché è tutto segrettato. L'ho tolto l'altra volta perché c'era qualche problema con... Con parallax. Che pesava tanto. Allora, impostazioni. Anti-erasing. Otto. Quetta ombra non ci interessa. Ehm... Accetta. Riprendi. Andiamo nell'hangar. Allora... Costruiamolo. Questo modulo scientifico. Allora, ci serve innanzitutto una... Adesso dovrebbero essere tutte pulite le linee. Oh, sì, finalmente. No, perché con tutte le linee segrettate bisogna essere tornati nel... 2012. Allora, questa qua è la... 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 La cupola. Bisogna capire poi se... È... È... È giusta... È sbagliata come... Come rotazione. L'alternativa sarebbe mettere una cosa di questo genere. Di fronte. Al... Al modulo scientifico. Però bisogna connettere questi due in qualche modo. E non so. Cosa avviene fuori. Tanto questo qua deve essere fermo. Non si deve muovere questo laboratorio. A meno che non gli vogliamo mettere delle ruote. Ma... Ci serve un po' complicata la cosa. Ehm... Laboratorio scientifico. Ci servirà anche un po' di... Ah... Corrente. Eh... Perché questo qua è effettivamente... Piccolina questa... Questa piastra qua. Ce l'abbiamo... Ho questo qua grande. Questo è il modulo di servizio. Apri. Potremmo però metterlo alla fine. Questo qua. Cioè non mi è mai piaciuto modo il servizio così. Però... Cioè che siamo abbastanza vincolati in questo momento. Questo può essere attraversato. Ah ah mi sa di no. Ah ah... Aspetta fatemi controllare una cosa. Andare su Eve. Eh ma se andare su Eve vuol dire rimanere su Eve. Capisci? O ci mando giù un robottino e poi trasmetto tutto quello che posso. Oppure vuol dire rimanere giù. Potremmo anche andare non è un problema. Siamo ancora andati su Eve. Perchè non mandare su Eve un robottino? Che problema c'è? Eh... Apriamo... Il... Rover Duna. Questo qua è il rover che ci ha portato su Duna. Possiamo... Chiamarlo... Rover Eve 1. Lo facciamo un po' migliorato chiaramente. Antena migliore. Eh... Batterie... Potremmo mettere qualcosa di più. Su Eve... Perchè su Duna hai già fatto un sacco di... Sì appunto... Devo scegliere se andare su Dress o da qualche altra parte per... Per riuscire a fare il tutto. Oppure... Non lo so. Allora... Atterrare su Eve non è un problema... In generale... Da un punto di vista di carburante. Perchè una volta che ti butti in atmosfera poi ci pensa all'attrito. A farti rallentare. Però di avere un bello scuro termico. Questo è il problema. E... I giusti paracadute. Perchè abbiamo sì una atmosfera più densa ma... Una gravità anche più forte. Vediamo che altre cose possiamo mettere qua. Scientifico... Avevo sbloccato un'altra roba tra l'altro. Magnetometro. Questa cosa è gigantesca. Mi sa che... Oh! Rilevatori gravioli. Holy moly. Lo mettiamo qua. Questo ce l'abbiamo. Questo ce l'abbiamo. Questo anche. Ok. Dovremmo esserci. Intendiamo. Potrò mettere un braccio più grosso ma poi verrebbe fuori un macello. L'alternativa è fare un rover molto più grande. E cercare di farlo atterrare senza fare danni particolari. Queste ruote qua io non le ho capite. Cioè a cosa servono? Cioè... Qual è il... Qual è il senso di queste ruote qua? Dovente davanti? Boh. Non lo capite proprio. Quindi se facciamo un rover più grande dobbiamo creare una stifa più grande. Questo lo possiamo... Lo possiamo ficcare dentro la... Il sistema di atterraggio che abbiamo usato per Duna. Migliorare un po' la... Diciamo il discorso del... Dello scuro termico. Quello inevitabilmente. L'energia non dovrebbe essere un grande problema. Solo che... L'antenna posso mettere anche quella più grande. Però poi consuma molto di più. Questa era quanti G era? Quindici? Questa era due. Yves non è neanche tanto distante da Kerbine. Atenna diretta. Pacchetto 3. Carica elettrica 133. Punto 3 al secondo. Questo è 200 al secondo. Quindi... Wow. Questi pannelli sonali quanto... Quanto tengono? Cioè quanto producono? Giusto per sapere. 1,6 al secondo. Mh... Prendete questo consuma... 1,2,3,4,5,6 batterie al secondo per... Per trasmettere. Eh. E questo potrebbe essere un problema. Perché o creiamo un sistema che ci permette di ricollegarci... Al... Al modulo d'atterraggio. Sì è anche più vicino al sole. Però non so se l'atmosfera influisce. Questo non me lo ricordo. Cosa che cazzo... Ah il pannello sonale grosso. Tanto... Ma che sberla. Rispetto al... Al rover. Boom. Stavo dicendo. O... Creiamo un sistema di ricollegamento... Tra rover e... Il modulo d'atterraggio. In modo tale da... Avere... La possibilità appunto di collegarci a quel sistema che potrebbe avere delle... Dei pannelli solari un po' più... Più grandi. Delle batterie più... Più sostanziose. Salve Ernst de Goma. Un pomeriggio. Eh... E questo non sarebbe una... Non sarebbe una brutta idea. Eh... Tanto è salutare anche un... Punto in cui mettere... La... L'antenna. Perché sennò... Sennò non ci muoviamo. Qua potrebbe andare... Sì beh... Non è bellissima. Possiamo inclinarla un po' così. Retrai. Ok. Non male. Non male. Braccino per gli esperimenti. Le batterie... Potremmo... Magari... Sistemare meglio le batterie... O cliparle dentro direttamente ma... Non lo so. Allora questo è quanto ha di carica elettrica? 120. Magari cambiamoli l'aspetto solo per... Per... Per Eve. Lo farei dorato per Eve. Questi hanno un'altra... E qua che bello che è. Tutto... Tutto gold. E' tamarrissima questa cosa. Ok. Non è una scelta facile. Qua per farlo funzionare questo bisogna mettersi perpendicolari al sole. Altrimenti... Non funziona molto bene fino a quando non sale su in verticale mezzogiorno. Questa qua non ha varianti. Ok. Potrebbe anche andar bene. Questo qua per Eve. Cosa mancava? Ah si. La docking port. Perché vogliamo collegarlo al... Oh madonna quanto è grossa sta cosa qua. Vogliamo collegarlo eventualmente... Al resto del... Della struttura. Eh. Questo potrebbe essere un altro problema. Perché poi rischiamo di non farci stare le cose. Dovrei mettere uno di questi. Per nascondere l'antenna. Car miseria che... Che complicazioni oh. L'antenna la posso piazzare qua guardate. C'ho l'idea. C'ho l'idea. Tac. Questo lo faccio scendere un po'. Non troppo. Tac. Lei si gira così. E quando esce... Uff. Si raddrizza. Quindi 0... Meno 90. Non ci sta neanche tanto male. Dopotutto. Questo lo possiamo mettere qua. Così è meno compenetrato. Quanta roba c'ha su sto coso. Ok. Quindi. Il minimo è 0. velocità di attraversamento. Facciamo un po' più bassa. Smorzamento minimo. Quindi. Ricambiamo anche l'aspetto. Lasciamolo così. Questo tipo... Uff. E si apre l'antenna. Preciso. Ovviamente ti pecco in live. Ficolla. Buon pomeriggio. Buona domenica. Come mai? Per lavoro. Per altri impegni. Come mai non riuscivi a peccarmi in live. C'è la ricarbonante. Cosa possiamo mettere? Oh. Questi padroni fotovoltaici sono bellissimi. C'è solo il problema che. Sono leggermente grandi. Ci stanno. Sono carini. Ma dovrei fare un rover molto più grande. E portare un rover più grande su Yves sapete. Però in realtà. Cioè. Non è che. Sia poi così male. Oh. Ficolla. Ma grazie. Grazie mille della sub. Grazie mille. Non sapevo quali fossero gli orari dei live. Ma in realtà gli orari dei live. Io non li ho mai tenuti sempre standard. Perché dipende da tante cose. Cioè. Magari ho tempo o non ho tempo. Cioè. Capisci. Quindi non riesco mai a programmarmi. Io non faccio questo. Per vivere. E quindi vuol dire che. Non è. La maggior parte del tempo che io ho a disposizione. È quello che dedico alle live. Anzi. Se mai il contrario. E quindi non riesco mai a. Darvi in anticipo. Delle date. Dovremmo impegnare. Per questa cosa. Che non è la priorità. Rispetto al lavoro. Rispetto a altre cose. Quindi. Mi piacerebbe. Avere tanto tempo. Da dedicare questa cosa. Perché farei molto più live. Ci piegherei. Ci impegnerei più. Più soldi. Magari più risorse. E. Probabilmente. Se fosse una cosa molto avviata. Con tante. Sub. Tante persone. Comunque grazie ancora. Ci potrei fare quasi un secondo lavoro. Però non è così. E' certo che qualcuno potrebbe dire. Però. Se mai inizi. A vederla come. Un eventuale secondo lavoro. Mai arriveranno tante persone. Devi fare tante live. Devi dare tanto prodotto. Tanto contenuto. Così le persone si appodano più. Volentieri. Lo so. Però. Vuol dire avere il tempo. E questa è la problematica numero uno. Avere il tempo. Ripeto. Se sei un ragazzino. Vivi a casa di tua. E non hai tanti problemi. Tanti pensieri. A parte magari la scuola. Hai tanto tempo. Oltre allo studio. E quindi lo puoi fare. Infatti. Quelli che iniziano a fare tanti soldi. Sono così. O magari quelli che quittano il lavoro. Per fare questa cosa. Ma perché si sono resi conto che. Riuscivano a ottenere un discreto successo. Anche. Dedicandoci poco tempo. Però sai. Poi. Devi anche vivere fra altre cose. Non. Non è facile. Tornando a noi. Questo. Sembra venuto anche abbastanza bene. Dobbiamo vedere. Se riesci a entrare. Come si deve. Dentro al. Dentro all'hangar. Dentro alla. La cargo bay. Ficolla. Mi segui sempre su youtube. Per i video di Kerbal. Non so. Neanche avesse il canale Twitch. Eh. Lo so. Può capitare. Io. L'ho scritto sotto. Però. Non facendo tantissimi video. Su youtube. Recentemente. Dedicati solo su youtube. Ma. Esportando video di. Di Twitch. Perché faccio prima. Tornando sempre al discorso del. Del tempo. Eh. Non. Non ho più detto. Adesso. Twitch eccetera. Non mi piace neanche fare tanto propaganda di questa cosa. Però. Eh. Meglio. Si è arrivato meglio. C'è tante persone che magari Twitch non lo guardano proprio. Perché non. Non interessa. C'è. Il tempo vuoi. Ma la voglia c'è. Il problema è che. Non c'è più la voglia. Nel momento in cui. Devi fare tutto di corsa. E. Non funziona. O il computer ti si blocca. O hai. Altri problemi tecnici. Non. Non vai internet. O il programma si inchiorato. O la mod. Non funziona più. O magari. Se lì fai tutto bene. Iniziai tipo. Tre spettatori. Per quattro ore. Capite che. Ti cade la voglia. A me piacerebbe fare anche. Live di No Man's Sky. Per esempio. Live di Elite Dangerous. Però sono molto chill. Molto tranquille. Anche queste per carità. Però sono molto 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 più lente. No Man's Sky è un gioco dove. Grindi parecchio. Cioè dove devi. Scavare. Recuperare risorse. Costruire con calma. Potrei anche fare una cosa del genere. Fare una sandbox in No Man's Sky. E andare a costruire su vari pianeti. Costruire varie basi. Eccetera. Poi. Questo però dipende da voi. Ecco. Se vi va bene. Si potrebbe organizzare. Potrei provare a farlo. L'ho già fatto. Un paio di volte in No Man's Sky. Ma. Magari era un momento sbagliato. Magari. Non interessava le persone. Quindi ho detto. Questo qua fare per tre persone. Per carità. Fa piacere. Anche se fossero due. Non mi interessa. Ma è proprio il discorso di. Vale la pena. No. Video sul topo. Personalmente fanno comodo. Perché ci. Come dici te. Magari. Tante live. Uno lavora. Altro da fare. Mentre il video lo puoi vedere. Quando hai tempo. Esatto. Mi supporti volentieri. Grazie mille. E io lo apprezzo. Veramente. Anche se si tratta di. Veramente. Letteralmente. Qualche spicciolo. Perché alla fine. Twitch non è che ti. Ti fa entrare ricco. Però. È già qualcosa. Cosa. Grazie. Comunque. Tempo fa. Avevo anche. Link per le donazioni. Però poi. Mi sono detto. Ma sai che c'è. Lascia perdere. Non. Non è il caso. Quindi l'ho rimosso. Sì. YouTube è molto più comodo. Da questo punto di vista. Infatti. Ho deciso di esportare live. Perché ho detto. Perché. Non dà la possibilità. A quelli che. Non usano Twitch. Non sanno neanche. Che sono su Twitch. Di vedere una live. Di qualche ora. Che poi. Te la tagli. Te la schippi tutta. È indifferente. Però sai. È sempre una cosa in più. E ci sta. Adesso. Questo l'abbiamo salvato. Apriamo. Il lander. Quello che abbiamo usato. Per. Duna. Per adesso. Sono riuscito a fare il primo. Landing summon. Il primo rendezvous. Con sabotaggio. Quindi ti offrevo. Grazie. Grazie mille. Allora. Questo affare qua. Era quello. Era il buggy. E questo qua. Era il buggy. Che è andato su moon. Non è. Come l'ha fatto a terrare l'altro. Scusatemi. Mi viene un dubbio. Le video sono fatte molto bene. Ssss. Grazie. Ma per come sono io. Cioè. Per una questione di perfezionismo. Le farei anche meglio. Il video. Però. Non riesco a tagliare troppo. Certe informazioni. Perché mi sembra di omettere. Delle. Delle. Delle informazioni utili. Quindi magari. Non vi dico tutto. 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 Nel minimo dettaglio. Perché andreste veramente. A rincogliorirvi. Sì. E mi dite. Sì. Ma come faccio. Alla pratica. Fammi vedere cosa devo fare. Allora cerco di essere. Un pochino più. Più sbrigativo. Però. Mi fa piacere che. Eh. Siano state apprezzate. Ora. Questa affare qua. Dobbiamo. Ficcarlo dentro. A una cargo bay. Eh sì. Non sono neanche noioso. Intrattengo la società. Grazie figola. Io quando ho fatto. Eh. La serie. Su. Eh. Buon periccio. Gabbiano. Quando ho fatto. La serie. Sui vari. Pianeti. L'idea. Di quella serie. Era. Fare la mia avventura. Raccontare la mia storia. La mia lore. Inventata. I Kerbal. Che si espandono. Eccetera. Ma allo stesso tempo. Spiegare. Come faccio. Fare quelle cose. Adesso. Facciamo l'atterraggio. Usiamo questa mod. Come si. Ci si trasferisce su duna. Eccetera. Eccetera. Come usare. Kerbal Construct. Che poi. Non funziona mai. Però l'ho vista anche. Con l'ottica lì. Infatti. Kerbal Discovery. Non ti spiego niente. Si parla solo di storia. E di riprese. Le cose. Ci vorrebbe una guida base. Su come funzionano. Le orbite. Ma uscirebbe un mattone di un'ora. Eh. Sì. Ma anche perché lì. Devi entrare nella. Nel tecnico. Per. Comparare. Quello che c'è in Kerbal. Con la realtà. Eh. Ti spiegherei tutta. Una. Una mazzetta. Prima. Che poi dire. Ok. Per esempio. Tutto quello che ti ho spiegato. Togli il 97%. Perché Kerbal. Si basa solo sul 3. E dici. Sì. Allora. Perché me l'hai spiegato. Allora. Questo qua. Dobbiamo ficcarlo dentro. Una Cargo Pay. Innanzitutto. Prendiamo. Un altro di questi. E lo giriamo. Qua. Perché dobbiamo avere la possibilità. Di rientrare dentro. Far scendere un pistone. E farci agganciare. A questo pistone. E questo non è. Non è semplicissimo. Per far scendere un pistone così basso. Vorendo. Potremmo mettere. Ehm. Qua sotto una base. Abbastanza larga. La più larga che posso. Attaccare. Un. Una fearing. Farla salire. Fino a su. Cioè. Il piatto della fearing. Farlo salire fino a qua. Per esempio. Così a questa altezza. E costruire una fearing. Che faccia una specie di campana. Ehm. 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 In modo che poi quando. A terra. Si aprono. I petali della fearing. Ehm. L'avevo già fatto in precedenza. Questa cosa. Su. Operazione duna. Primo episodio. E rimane solo il tappo qua sopra. Eventualmente ci si mettono. Dei. Finti strutturali. Perché alla fine questo cosa. Fluttuerebbe nell'aria. I finti strutturali qua. Per fare sembrare che c'è proprio un telaio. E qua sopra ci si mettono magari. Non so. Delle. Delle batterie. O un modulo per i pannelli solari. Per esempio. Si potrebbe fare una cosa di questo tipo. Ci sono le possibilità. Nasdaq Goma mi dice. Sarebbe divergente spiegare il concetto di. Se acceleri. Rallenti. E se rallenti. Acceleri. Delle orbite. Si perché. Se acceleri. Il punto opposto rispetto a te. L'altra parte dell'orbita. Si allontana. Dal pianeta. E più si allontana dal pianeta. E più tu sarai lento. Quando arriverai in quel punto. Mentre più sei vicino. Al pianeta. Più sarai veloce. Rispetto alla superficie. Quello un po. Incasinato. Potrei spiegarlo. Quando ho fatto il disegnino. Della lavagna. Come andare in orbita. Eccetera. Come incontrare. Correndo voi. Ho cercato di spiegare. Nel modo più. Più semplice. Ma non troppo. Ridotto. L'informazione. Cosa. Prodato dappertutto. Minaggia a me. So come è possibile. Torniamo a noi. Allora. Perché sennò qua. Non riusciamo a costruire. Questo affare. In meno di un'ora. Allora. L'idea che dicevo prima. Era fare una. Una cosa. E la madonna. No. Così. Forse un po troppo grosso. Però neanche tanto. Qual è la missione attuale? La stavo seguendo sul tubo. E sono indietro di un video. Ah. Ok. Tanto ho fatto l'errore. Di fare uscire due live insieme. Di esportare due live insieme. E così la gente guarda l'ultima. Non guarda la penultima. Quella con la stazione. Tornamino. Che non è fondamentale. Per carità. Quella è una. È un intermezzo. Che. In cui vi faccio vedere anche la costruzione del. Del buggy per Duna. Ah. Stai avendo quella lì. Ok. Successivamente c'è. Il buggy. Su Duna. E a terrazza su Duna. Mi pare che l'episodio. Questo qua è l'episodio 9. Quello del buggy su Duna è l'episodio 8. Adesso dobbiamo. Dovevamo. O andare a recuperare i tizi su Duna. O farli arrivare giù. Un laboratorio scientifico. Quindi prendono la loro. Roba scientifica. La buttano là dentro. E rimangola. Come se fosse una specie di avamposto. Definitivo. Non per una questione di pregrezia. Per non portare a casa. Ma perché semplicemente. Ormai su Duna. Non c'è. Chissà che cosa da fare. Quindi anche se li porto a casa. Per quei pochi punti scienza. E' più il costo. Li portare a casa. E lo sbatti. Che lasciare giù. Un laboratorio. Oppure. Ci aveva suggerito. Pilota. Pilota eroico. Di mandare. Mi sembra. Di mandare qualcosa su iva. Infatti. Quello che sto costruendo. Ehm. Tempo fa. Vedi una playlist. Tempo fa. Fidi una playlist. Ottimo. No. Non lo so. Cosa stai dicendo. Però. Sarà il T9. Tra l'altro. Vediamo. Tra 60 minuti. Artemis. Ok. Nel caso. Vedete partire Artemis. Ditemelo. Io. Metterei un po' di musica. Se volete. Così. Degli sottofondo. Molto. Molto leggera. Potrei fare. Una selezione chill. Di genere proprio random. Che non conosco. Semplicemente metto. Chill hop. Per esempio. La metto in sottofondo. Se avete proposte. O metto Bjork. Non lo so. Ok. Dovrebbe andare bene così. Il volume. Puoi ditemelo voi. Se va bene. O è troppo basso. Troppo alto. Il pilota mi dice. Comunque. Con l'antenna 100 g. Puoi già andare su giuro dress. Quello si inevitabilmente. Però andare su giuro dress. Diventa. Poteva. Poteva essere una missione. Ci da un po' più. Più di scienza. Però effettivamente. Ecco. L'idea che dicevo prima. Era tipo una cosa del genere. Perchè non me la fa costruire. Tipo una cosa del genere. Che poi. Con lo scuro termico sotto. Adesso non so se ce l'ho. Quello grande grande. Ovviamente. Figurati. 2,5. 1,7. 1,2,2,2,2. Ok. Abbiamo questo qua. Forse possiamo metterne. Possiamo ingrandirlo. Vediamo. Diametro. Si. Possiamo farlo un po' più grande. No problemo. E per Eve serve. Assolutamente. Più è spesso più ablatore ha. 3,2 dovrebbe essere sufficiente. Possiamo cambiare anche il colore volendo. Ma c'è ablativo. Mi ricordo che c'era ablativo. Vanguard. legacy text. Ah eccolo qua. Ablativo. Wow. Oh vabbè. Direi che ablativo potrebbe andare anche bene. Quindi il piano sarebbe così. Poi questo si distacca. E tutto il resto sarà in alto per aiutare. Questo poi però deve fare un bel saltino da qua a giù. Comunque. Italian Alien. Buon pomeriggio. Ma che rover. Fai un lander lunale che SpaceX ha lanciato oggi per la luna? Ma. Che non ho capito scusa. SpaceX ha lanciato un lander per... Da quando? Ma non lo sapevo. Allora pilota ci stava dicendo. Ah le buon pomeriggio. Ti saluto ma non posso guardarti perché c'è Artemis e devo fare i compiti con amici. Tranquillo. Ciao. Vai a fare i compiti che sono importantissimi. Per che altro... Studiate. Fate i vostri anni a scuola. Trovatevi un buon lavoro. Poi dopo che avete finito dai superiori o quello che dovete fare... Capite cosa volete fare nella vita. E studiate quello. Ok. Poi non lamentatevi se andate a fare... L'influenza e arrivi a 30 anni che non hai più una lira e non ti si incula nessuno. Fate un lavoro che... Può rendere fieri di voi. Sto pure giocando a KSP con la place. Intendo una di video che molto semplicemente spiega le meccaniche orbitali ma quelle reali. Eh beh sì ciao. Ti vuoi proprio fare del male. Un bel sottofondo. Sarebbe veramente figo se Adrian ti facesse un ride quando finisce? E sarebbe veramente figo però Adrian manca un'ora. Io gli ho già provato a scrivere. Gli ho mandato anche una fan art. Io non è che sono fan però comunque siamo nello stesso ambito. Quindi se qualche streamer famoso potesse darmi qualche visibilità in più sarebbe di certo non schifato. Questo è chiaro. Però non voglio neanche troppo appiccicarmi a rompere le palle. Hanno hackerato l'account twitter di Adrian. No aspetta Nati. Stanno succedendo troppe cose in questa chat. Mi state rincoglionendo. Stamattina... Ma quando? Ma se veramente a Italian Alien. Dopo andiamo a verificare. Perché voglio capire... Ma è l'enter di che tra l'altro? Ah tu dici un coso piccolino. Non quello ufficiale. Ok. Ma in che senso? Ah l'account twitter. Vabbè ma l'account twitter. Next space flight per sapere quando fanno lanci. Quello lo vedremo. Eh... Un lente giapponese tra il payload. Hm. Rompi tu le palle agli admin. Beh... Magari con delicatezza. Più che altro la sua live durerà ancora parecchia. Mi pare che Orion arrivi alle 18. Non so fino a quando sei in live. Eh... Io almeno per le 18 ci sono. Vediamo magari l'ammaraggio eventualmente e poi ci salutiamo. Forse tornerò più tardi la sera. Più tardi tipo per le sole 9. Per un paio d'ore. Poi basta. Eh... Magari con No Man's Sky. Per dire... Per fare una cosa molto rilassata e silenziosa. Perché non è che posso urlare la sera tardi. Poi sopra hanno un bambino piccolo. Quindi... Era seguito dall'Agenzia Spaziale Europea degli astronauti. Da alcuni astronauti. Beh... L'account di Adrian. Cavolo. Beh... Può essere una questione... Poi magari non è che li hanno hackerato proprio. Basta che clicchi su un link che non devi cliccare e... Magari fai un login di nuovo su Twitter che ti chiede di fare il login ancora. In realtà non ti stai logando su Twitter. Stai regalando le tue credenziali a qualche... Qualche tizio indiano in qualche call center. Allora... Dobbiamo decidere che tipo di approccio seguire. Perché... Se mettiamo questa cosa qua così... Eh... C'è il problema che... Eh... C'è il problema che... Eh... Deve essere agganciato in qualche modo. Eh... Eh... Sì allora si potrebbe fare... Io farei così. Allora... Rover Eve... Creiamo un... Eh... Nuovo... Capsula... Rover... Eve... Uno... Eh... E ci mettiamo... La failing è quella grossa. Che dov'è? E' qua. Ok. Andiamo su... Questo qua va. Così abbiamo le cose radiali. Ok. Questa è la failing. Sotto ci dobbiamo sbattere come abbiamo fatto prima. Un bel procedural... Ehm... Coso. Procedural di heat shield. E eventualmente ci mettere anche qua sotto dei cuscinetti... Eh... Per il grip. Perché non vorrei che questo cosa se ne vada in giro... Per la superficie. Quattro cuscinetti grip. Che tra l'altro... Per chi non lo sapesse... Hanno anche un... Un discreto... Ehm... Il livello di... Di sopportazione delle... Degli urti. Quindi... Non male. Potrebbe aiutare un pochino alla datotire e all'impatto. Se... Dovessimo arrivare troppo forti. Heat shield. Lo mettiamo qua. Poi dovremo fare dei test. Non so perchè ci sono due... Due cosi però va bene. Questo lo facciamo più grande. Così. Lo facciamo anche un... Pelino più spesso. Vabbè che 3200 di ablatore sono più che sufficienti. Ma va bene. Lo teniamo così. Ricambiamo come abbiamo fatto prima... La... Legacy texture. In ablativo. Va benissimo. E questo... Penso che non sia neanche tanto male. Dopotutto. Guardate che bello. Dobbiamo creare un sistema per far scendere il rover. Per non farlo capottare male. Quindi ovviamente... Questi affari qua. Sono quelli che fanno il caso nostro. Eh... Dobbiamo metterne... Eh... Però forse è meglio mettere una cosa... Parallela. Allora. Facciamo così. Una trave. Inginiamola. Guarda quanta... Quanta ingegneria per far scendere un rover da una roba. Uff. Allora. Che d'altro non deve neanche andare... A dare fastidio al... Al rover. Anche questa è una cosa che dobbiamo considerare. E la robotica io cerco sempre di evitare perché ti fa laggare il gioco in modo... Disumano. E disumano è dir poco. Con la simmetria specchio. Spero che funzioni. Rimortacci suono. Funziona così. Ehm... Come cazzo... O così. Ehm... Sto pensando. Allora. Noi possiamo metterlo così. Però poi non si chiude. Così E però poi Tacci E c'è la problematica Ora se io Prendo questo qua Lo metto qui A parte che stiamo sbilanciando il mezzo Quindi non è proprio Non è proprio la cosa migliore da fare Però vediamo solo per capire Come far scendere questo affare Questo qua sarebbe ideale Che noi facciamo una cosa del genere Lui fa tipo da scivolino E lo aiuta a scendere In modo molto easy Purtroppo la capsula non si può usare E poi comunque sarebbe scomoda A prescindere Dovrebbe essere un triangolo Una piramide Non sarebbe comunque liscia Sarebbe concava E non va bene Anche ipotizzando di Oddio si Compenetrato male Anche ipotizzando di Dai Facciamo scherzare Najat e Kerbal Tac Ok Anche ipotizzando Di riuscire a fare questa cosa qua Poi però si compenetra Qua dentro Non è che mi piaccia tanto Potremmo far finta di niente Troppo Non sono molto convinto Questo dovrebbe scendere Tra l'altro Leggermente Per non dare fastidio E questo dovrebbe stare Tipo dentro Così Perché purtroppo non c'è un coso Che tipo No In realtà si Ah sono Sono un babuino Ragazzi Sono un stupido babuino Guardatemi Uso questi Questi qua Possono fare Quello che dico Intanto posso usare Anche simmetria Vedi che sono proprio Stupido Allora Ok Mi serve Una parte strutturale Molto leggera Quindi direi che Quanto sono grandi Queste In realtà potrei usarne Anche solo uno Pensandoci bene Non c'è bisogno Di usarne due Ne uso solo uno Qua centrale Così evito I problemi di simmetria Ok E ci piazzo sopra Magari uno di questi Pannelli qua Così Così Sperando che non crei problemi Questo eventualmente Farà così E poi salta A posto No allora Questo qua Devo girarlo Così Ok Perché lui Arriverebbe così Praticamente Spiacicato Su In piedi Quando arriviamo su Eve Poi lo up E dovrebbe fare Una cosa del genere Però dobbiamo Regolarci bene Potremmo fare che In due sezioni Quindi un Una Verrebbe poi Veramente figo Effettivamente Togliamo questo Togliamo questo E mettiamo Questo qua Dai Ci sta Ci sta Ti è anche un pochino Più a filo Questo lo mettiamo qua Però non deve dare fastidio A questo Deve essere in linea Con questo affare qua Ok Così Questo è il suo Affarino Quindi in teoria Dovrebbe fare questa cosa qua Aprirsi Ovviamente ho fatto il contrario Figurati No però va bene No però va bene No però va bene dai Questo poi Questo poi si apre Si apre con i tac Deve Rientrare un pelo Così Va bene Tac Così E qua E qua li mettiamo A parte Un Peccato che Non mi fa le cose Come vorrei io Allora facciamo così Questo lo togliamo Questo lo togliamo E ci mettiamo questo qua Dai Sono rotto Questo lo piazziamo qua Questo lo spostiamo E questo lo giriamo così Tac Ho Così ha senso Ho solo paura che vada a dare fastidio a questo qui Quindi facciamo una roba del genere Questo lo facciamo entrare Sì dai Così Ma se non si incastra la roba Perché sono Piango Ok Quindi Diciamo che Il Zero Il massimo Ok Velocità Bastanza lenta Smorzamento minimo Quindi Oddio Zero Meno Novanta No Non me lo fa fare Allora Quindi Meno novanta Zero Così Tac Tac Ok E da qua in poi Gli facciamo le due Le due palette Che sicuramente mancherò Brutalmente Bisogna fare anche un test di Di larghezza Per eventuali problemi Vediamo un po' Questi qua come si girano Tac Ok Anche perchè su Eve C'è una gravità maggiore Se io salto giù mi si spacca tutto Salto giù in modo molto allegro Facciamo così L'ideale Allora E mettere Non questo Ma questo Una cosa così Bam Che Allora Non mi piace molto Perchè ha Il problema Del Allora Facciamo questo Ah no Non va bene Perchè Sporge Io poi sono fissato Con sta cosa Non cambia il colore Tra l'altro Sarà un po' Buggata Va bene Va beh Ma è Kerbal Si sa Questo lo abbassiamo Prendiamo un altro pannello E Questo qua E lo piazziamo così No Prendiamo quello un po' Più grande Ciao appassionata Che faccio Sto costruendo un sistema Per far Scendere Un rover Sano Su Eve Lo sto over Inginerizzando Dopotutto Perchè Si potrebbe fare Anche in modo Molto più semplice Ma mi piace L'idea di farlo Diciamo credibile Quindi sto piazzando Dei Dei Delle rampette Per Per fare Tutta questa cosa Ah è vero Che poi lui in realtà Si appoggia senza lo scudo Quindi dovrebbe Atterrare in questo modo Ora questo a fare In realtà Oddio Ok Bisogna Non perderlo Perchè sennò poi Non lo trovo più Questa è Ovviamente Un Is shield Custom Però perchè Non l'ho sbloccato Con i grossi Stock Sotto dei cuscinetti Per il grip Questa è una Fading Il rover Sarà piazzato qua E dovrà scendere Per me Questo è anche un po' stretto Quindi eventualmente Dovremmo allargarlo Questo qua Dovrebbe fare Una cosa del genere E questo Dovrebbe stare In teoria Tipo così Una cosa Boh Per non dare fastidio alla fene Perché la fene Sa tipo Tac tac Così tipo a campana Quindi poi questo si Si apre Una cosa così Ok, quindi diciamo che 24 va bene E meno 40 era l'altro Quindi si chiude, tac Si chiude, tac Quindi inoltre atterrati E via E abbiamo il nostro sistema per scendere Adesso lo testiamo anche su Kerbin E vediamo se funziona bene Questo possiamo cambiargli magari Il tipo di pannello Possiamo farlo così in nero, va benissimo Ok Possiamo taccargli anche un cal Per esempio per gestire tutta questa cosa Figaro non riesci a piegare la seconda parte Facendo la fine sopra Prima quindi tutto ripiega Si, volendo si Sto pensando prima però Mi hai anticipato So cosa intende dire Che si piega su se stessa Si poteva fare con lo sondaggio d'alligatore In modo molto semplice Che è quello più lungo, no? La paletta Così ho il problema Che devo girare per forza Questo affare In questo modo Perché sennò poi non si folda su se stesso E non so cosa viene fuori Quindi questo lo devo spostare così Spostare così E se questo vi dico di Vabbè modifichiamo il limite angolare Perché dobbiamo fare il test Di chiudersi ulteriormente lo può fare Però poi deve aprirsi corretto Quindi dobbiamo Posizionarlo nel posto giusto Per evitare sovrapposizioni strane Per esempio Questo qua Dobbiamo muoverlo un po' più avanti Così Così si, si Si può fare che Che si richiude su se stesso Si folda Adesso per vedere Questo affare qua Io devo fare tutta sta roba Dovrebbe essere C'è il link o delle parti Puoi selezionare tutte Però Chiediamo troppo Tac E questo si rifolda su se stesso Non è bellissimo ma Funziona Tutto clipato però Vabbè Si fa quello che si può Non so perché mi ricorda La mensola spaziale di Howard In The Big Bang Theory Non ricordo La mensola spaziale Però va bene Ho capito Ok Quindi questa la possiamo testare poi Ora Bisogna creare un sistema Per connettere Il tutto Dato che questo si può Piccicare dove vogliamo Possiamo posizionarlo Al centro Questo lo mettiamo Su Una cosa così Su questo qua Ci mettiamo le cose Di cui abbiamo bisogno Innanzitutto Innanzitutto Un No pistone Sì no Pistone sì Per collegarlo Eventualmente quando rientra Entro la capsula Sperando che riesca A rientrare nella capsula Perché non si sa mai Magari al contrario Pistone grande Forse è un po' troppo grande Forse lo teniamo così Qua sotto Ci possiamo mettere Eventualmente Delle batterie Why not Ovviamente non me le fa mettere Perché è stronzo Però mettiamo Queste altre Radiali Che male non fanno Io le metto qua E poi le faccio Slideare sotto Così mi mantiene La simmetria Ok queste sono le batterie Sopra qua ci mettiamo Il probe di controllo Perché questa È la parte complicata Il probe Retroga Ok questo qua Mantiene tutto Quello che serve E lo devo attaccare Per forza Con un sistema Strutturale Di questo genere Perché se no Non me lo fa clippare Ok Qua così Un'unica batteria circolare Sì potrebbe anche Essere un'idea Però non volevo Sfruttare Perché queste qua Quante hanno Sono 100 Per 6 7 8 800 La batteria singola 200 Questa ha 1000 Si dai No perché più che altro Non volevo mettere Troppo peso Vabbè Possiamo Metterla così E la piazziamo Così dai Però qua Sfarfalla Ok Ok Ora questa cosa qua Deve la sua Antenna Quindi anche questa Sarà la parte Difficile Qua sopra Vi metterei Un modulo Solo per I paracadute Pannelli Solari Anche Questa è una cosa Importantissima Non male Non male Poi Poi metterei Poi metterei Questi piccolini Qua Qua però Da spostare Qua così Per dare l'idea Della struttura Che devo creare Poi con Quella failing E metto Questi cosi Qua Da qua A qua Ok Questa dovrebbe essere La struttura Sperando che non esploda Niente Nel momento in cui Sgancia la failing Il che è possibile Sapete come va a finire Poi Che bella Poi è anche carina Dopotutto Vediamo se mi fa fare Anche questa cosa qua Tak Ma che beltà Un elicot- Sì praticamente Elicopter Elicopter È una gabbia di fara Dai però Dai Ci sta Cercao di farla Più credibile possibile Che altro Struttura interna Poi c'è il suo Coso per uscire Così sarà comunque Sbilanciata Perché ha tutto Il pannellino di là Ma veramente Sbilanciata di poco Al limite Qua ci mettiamo Una stranzata Un piccolo peso Tipo questo qua Ovviamente Il peso Dei rompere le palle Perché figurati se Tu pensa È un oggetto strutturale Che dovrebbe darti Una mano Dovrebbe essere utile Posizionabile dove vuoi No non puoi farlo È solo un peso Che devo mettere Per bilanciare Il tutto Così Non dà fastidio a nessuno Ma che bella che è Magari più grande Non sarebbe nemmeno sbagliato Un elicottero per EVE Sì però Non so come va a finire Se mettiamo Un elicottero per EVE Ora qua Ora questi casi Apriamo per ultimi Ok E probabilmente Non saranno sufficienti Per Per tutto E la batteria Non sarà sufficiente Pensare bene Servono più batterie Più batterie Queste li ripiazzerei qua Più giù Così fanno anche Da contrappeso Cioè fanno Abbassano i centuri Di massa E vanno anche a chiudere Questo buco Tra la base E I strutturali Così ci siamo Possiamo vedere Quanta batteria abbiamo No Non possiamo vederlo C'era un coso di Carbon Engineer Forse che ci faceva vedere All stages Ah non mi ricordo Settings No Non lo so Vabbè Fa niente Facciamo due conti Queste sono da 400 Sono 8 per 1 2 3 4 5 6 4.800 Uh Più mille Vabbè 5.000 Vabbè Dovrebbero passare Pesa questa cosa 8 tonnellate Che non è poco Ma neanche tantissimo Quindi questa è la parte Che rimarrà giù Con il suo sistema di controllo Ora Dobbiamo anche Aggiungere Un Un accoppiatore Piccolo Più piccolo che c'è Qual è Ah questa C'è anche quella Grossa Grossa Che bella Quella restock Questo è carino Ma potrebbe Chiamere I problemi A me Siamo Il accoppiatore Più piccolo Che abbiamo Che penso Che sia Quanto Questo qua Questo qua Ok Però Girato Per così Perché si deve Staccare Dal resto Della struttura Ok Questo qua Sarà quello Che ospiterà Tutta la sezione Paracadute RCS E quant'altro Che poi dovrà essere Staccato Quindi Faremo Un Uno strutturale Così Molto semplice Due strutturali Oppure addirittura Un Conico No così Forse un po' grande Un conico Così Un conico Con Razzetti Di separazione Qua Ne possiamo fare Due Forse Potrebbe essere Sufficienti Facciamo Quattro Per sicurezza Perché non si sa Mai Potrebbe essere Che non Non bastano Questi razzetti Serviranno solo Per staccare Questo cappuccio E spararlo via Ora Su Eve Non dovremmo avere Particolari Problemi Con L'atmosfera Dovremmo avere Abbastanza Paracadute Però non si sa mai Ciao Praticamente Che cazzo Che cazzo sta facendo Questa Così Tac Dovrebbe essere Già A posto Questa Questa possiamo Compensare un po' Non è un gran problema Ecco una cosa che non so è Come si comporta Questa cosa Se la L'antenna è chiusa Mi spiego Se io devo scendere Su Eve E a un certo punto Non ho più controllo È un problema Perché Come faccio A dirgli Cosa deve fare Cioè io Non apro la failing Fino quando Non tocco terra Potrei anche Aprirla prima Nel momento in cui Si apre Paracadute Però Vedremo Però questo Non posso staccarlo Fino quando Non tocchiamo terra Perché altrimenti Paracadute Non funzionano Un cal Per fare che cosa Gabiano tu sei fissato Con i cal Ma in questa cosa Non mi serve Massimo mi servirà Per questo Ma basta che schiacci un tasto Si apre Non c'è neanche bisogno No Stavo pensando Per Come faccio A gestire Il mezzo In rientro Nell'atmosfera di Eve Se non ho un segnale diretto Cioè Non so Se Questo mezzo Con le antenne L'antenna aperta all'interno Della fearing Può trasmettere Secondo me si Si le recessi Lo metterli Si ma se non ha No La mia domanda è Se io li metto L'antenna qua dentro No E la lascio estesa Durante La fase di rientro No Così posso tenere Questo qua Alto Fa la fearing Che fa così Tan 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 E non dà fastidio L'antenna funziona Nella fearing In teoria si Teoricamente Non trasmetto Niente la fearing Eh Questo È il mio problema Come faccio Far atterrare Se non ho il segnale In teoria Il segnale Del coso Dovrebbe Essere sufficiente Per comunicare Con un eventuale Ripetitore In orbita No Il modulo Ce l'ha l'antenna E questo È in dubbio Però non so Se ce la fa A comunicare Non credo proprio A comunicare Con Con Kerbin Mi servirebbe Comunque Un'antenna Da mettergli dentro Nel dubbio Anche se Vabbè Non credo che Ci salva la vita Questa cosa Mettere delle antenne Da mettere dentro Combinate a 6 Così Ok Che teniamo Sempre aperte Praticamente Sperando che Riescano a comunicare Non penso Ma Fa niente E potremmo fare Che il mezzo Che lo porta Fino a Ive Rimanga in orbita E noi lo sganciamo Solo Sotto Al nostro mezzo La speranza È proprio quella Di beccare Una zona Non d'acqua Possibilmente O di metano Quello che sia Esatto L'idea Era quella Che abbiamo E mettere Comunque Un'antenna Per riuscire A gestire Dall'orbiter Secondo me Non dovrebbe esserci Un grande problema Perché Forse dentro La feeling Funziona lo stesso Però vediamo Faremo delle prove Impostiamo Un tasto Per aprire questa Perché adesso Questa qua Dobbiamo provare A lanciarla Allora Il tasto 0 Attiva Disattiva Snodo Attiva Disattiva Snodo Questo per far scendere Il robottino Ora qua sopra Ci dobbiamo mettere Dei strutturali Che non sono fondamentali Ma facciamo finta Che sia realistico 4 Va benissimo Che attacchiamo Qua sotto Va che bello Che è O ti fai un girosincono E sei a posto Per la parte Del pianeta Del pianeta Lì sotto Sì anche Quello è un astrigomo È una buona cosa Il girosincono Però Vuol dire Che Arrivo Su Eve Più o meno All'altezza Che mi serve Per il girosincono Mollo Un satellite Del girosincono E poi Abbasso La mia orbita Però devo aspettare Di essere sotto Il girosincono Per sganciare Questo E atterrare In modo che Ce l'ho sempre sotto Si può fare Ma non lo so E diventa un po' complicato Esatto Perché se scende Il satellite Altrove Il satellite Abbasso la coda Come il repeater O non lo so Potremmo provare Magari è sufficiente Queste antenne E funziona Dentro al coso Questa mi servirà Solo per trasmettere I dati Dopotutto Non ho un'antenna relay No ma Dovrebbe rimanere Collegato Con Il satellite In teoria Ho in orbita Qualcosa su Eve Non so se è un relay Oppure no E il geosincono No beh L'antenna relay Ce l'ho Cioè Vorrei portarla lì Farla Sganciare Dal Dal Transfer Che lo porta Fino a Eve Teoricamente Cioè Dovrei mettere Sotto A questo Un altro coso Che ha un antennone Tutti questi sono compenetrati Un'antendona Grossa Per ripetere il segnale Però Non lo so Possiamo provare Poi vediamo Allora Qua sotto Dobbiamo metterci La nostra Piccola docking port Così Voilà E questo Vediamo quanto si estende Riuscita la facciamo lenta Così non creiamo cose strane E vediamo se dobbiamo abbassarlo ulteriormente Salviamolo E vediamo un po' Allora Questi razzetti In teoria Possiamo dire che uno Lo rimuoviamo Dalla simmetria E Li limitiamo leggermente La spinta In modo tale che Si sposta di lato Non ci cai in testa Ok Ed è tutto connesso Con questo Decapler Quindi quando facciamo questo Pa 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 Dovrebbe staccarsi tutto E andare su Penso che bassino questi Per far scendere 9 tonnellate Su Eve Ora Buttiamoci dentro Il rover Ok Andiamo sull'SPH Rover Integra Ora Per collegare una cosa Come vedete in questo caso Tramite La docking port Voi dite Cavolo Io prendo ma Le palline verdi Sono di lato Sono di qua Perché non posso farlo Tramite la docking port Lasciate il mezzo Mezz'aria Cliccate questo Porterò da tracco Bam Adesso si è creata Una pallina Porterò da tracco Easy Magari se lo giriamo Già verso La voglia Possiamo anche abbassare Il tutto volendo Solo che se lo sgancio Così esplode Questa può scendere Ancora un po' Eh sì ma non troppo Fatemi fare Un test Se posso abbassare Questo si abbassa Tutto quanto Oh sì che bello Va che bello Così facevo Una feeling Anche più piccola Fantastico No però aspetta 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 Si riabbassare Di più Perché se no poi Non mi si ricollega Ok con questo qua Dobbiamo stare molto attenti Questa la blocchiamo Facciamo veloce Di attraversamento Molto bassa Così nel caso Lo blocchiamo tutto Se serve la teotidina Per il geosincono Di live È 10 km Che senso 10 km Possibile Ma neanche 100 km 10.000 km Quindi un milione Aspetta però Quanto è alto Ghillie Giusto per sapere Perché non vorrei Dovermi trovare Ghillie nel culo Ed è un problema Guardate quanta Baracca per un rover Tanto non ho neanche Reaction wheel O RCS Quindi dobbiamo Piazzare anche questo LCS LCS Help Ok Locale Che bello Questo setup Perché Puoi continuare A piazzare roba Senza troppi problemi Oddio A parte questo RCS Ecco Meglio starci Un po' più bassi Che non vorrei Che quello poi Vada a toccare RCS Ce l'abbiamo Non tantissimo Perché abbiamo 20 Per Dove se Insomma Non è che sia tantissimo Però dovrebbe servire Solo per Per girare Di più Possiamo mettere Una piccola rotta Di reazione Ci sono queste qua Per esempio Brutte Bruttissime Mettiamole qua sotto Ok Di fuga Io una cosa simile L'ho fatta Usando una stiva Occhio alla discesa Riapsidire 14.000 Kilometri Rispetto a A A Eve Dal son del pistone Beh sì Anche tu c'è Regione Serve una piccolina Ok Tanto anche se Compensata Fa niente Perché comunque Tutta roba strutturale Questa Ok Direi anche Di mettere Due Cagatine Di pannelli solari Giusto Di backup Nel caso Succeda qualcosa Di strano Ok Riteniamo così Di backup Proprio Speriamo che vada bene Adesso Delle cs ce l'abbiamo Dobbiamo mettere Gli ugelli Perché se no Non serve a nulla Io li metterei Qua Qua Così Ma che carini che sono Possiamo fare anche solo che sporgono Così C'è anche credibile A me piace quando sono Costruito in modo Credibile Possiamo dirla così Ora Adesso vedrai che non mi fa fare la carenatura Sicuro come Salva Costruisci No Però sembra farmela fare No Non la fa costruire Perché c'è qualcosa in mezzo Ok Oh Ma che bello Sto capsulotto qua Diciamo La T4 Forza esplosione Piuttosto grossa Azione a valve Va che bella Espansione granatura No Diamoli un colore Metal Metallica Proprio Cattivissima Questo Cono qua Possiamo fare In un altro colore No Così va bene Adesso Ok Se la differenza di Ghilly È molto piccola Un genosincro non è possibile Ok Quindi Però il problema Aspetta Bisogna Bisogna vedere se noi Passiamo dentro All'orbita di Ghilly Intorno a Eve Perché se ci passiamo Perché se ci passiamo anche solo un po' distante E Ghilly Dovesse catturarci Per sbaglio Ci sputtana Completamente In movimento A me era capitato di mettere Un satellite in orbita Molto lontana Da Kerwin E senza rendermene conto Poi Moon Me l'ha lanciato In un'orbita solare Vitali Alien Buongiorno Ma intanto Come siamo messi Con la live Ancora Fra dieci minuti Dai Fra dieci minuti Lo facciamo Intanto possiamo testare Questo affare qua Possiamo testarlo Su Kerwin Per esempio Tac Tac Ok Tac Tac Io direi Prima di far sparire questo Così magari Non ci fai sparire nulla Ok Tac 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 Ok Questo lo usiamo per il test Ci mettiamo Semplicemente Un Decapper Molto Molto Semplice Ok Sotto ci mettiamo Un piccolo motore Per derubitarlo E Penso che questo vada bene No Questo qua Ok Test Ok Salva Aspettate Lancia La sua inferenza è 127 km Molto piccola Ma La pubblicità di colino bianco Fanno Il proprio tema delizio Meno male che è finito Ma c'era la pubblicità davanti al mio video Spero di no Perché in teoria non ce li ho Strano Io di solito non ho pubblicità a metà video Però ogni tanto può capitare che vi metta una pubblicità Così faccio il big money Sì magari Se viene fuori Appena Apparare Ah ok Sì lì ci può stare Comprensibile Allora noi facciamo un test di rientro Diciamo di voler Quanti metri a 6 1.600 voglia Aggiungi manovra Diciamo Di atterrare a qualche parte Tipo qua A qualche parte qua Tac tac Questo qua waterfall Non Non si è attivata A quanto pare Cioè qua non c'è il Il plume di waterfall Per qualche motivo Per questo motore Forse perché È un motore Di un Di un DLC Intanto viene il banner Tutte volte che entro Parto la pubblicità E beh No allora io non ho Diciamo la La partnership Di Twitch Quindi non è che Hai scritto Ma dai Vuz Ma quanto ci vuole Qua fare sta cosa Ah perché Questo motore Fa schifo Ecco perché Grazie a tutti serve solo a terra su terraferma ah che bello abbiamo follower non riesco a leggerlo troppo piccolo alescubio grazie grazie per il follow benvenuto adesso vediamo come si comporta questo affare qua salve salve esimio è in viaggio chi chi cosa allora questo affare si sta sbrucciacchiando male più che altro mi interessa come funzionano se esplode qualcosa è vero che lì abbiamo dato un sfera più densa mi chiedo se è piatto sto coso guarda sono 10 tonnellate dove è finito il detrito dove è detrito il finito beh ha una bella superficie ha un fottio di abblatore quindi va bene questa la apriamo a che so a 3.800 metri gli altri a 2.000 test scudo questo dovrebbe arrivare su if se tutto va bene ok apriamo il primo paragalute rcs può anche disattivarsi belle le città sotto gli alberi ecco questa feature di IVA oh ma che bella zona che c'è lì questa feature di IVA non è proprio bellissima infatti mi sa che dovrò disattivarla non mi piace tanto è bello vedere dallo spazio le luci delle città ma non ci sono città su Kerbin quindi perché è un po' pesantino eh ma però a 7.20 seconda in teoria non so come potremmo scendere su IVA qui a 700 metri adesso leggo subito figolla darmi un secondo 400 metri questo possiamo oh shit non si può sganciare what the fuck ah non ha il coso eh vabbè pace metteremo con quindi mettiamo in lista mettere un decupler per quella roba lì 7 metri al secondo sono un po' tantini potrebbe scoppiare tutto no fortunatamente no ecco spuntiamo decupler per il shield che a quanto pare non si stacca non c'è il tastino per staccarlo stronzata però va bene eh si è risposta e anche piedi cos allora adesso leggo figolla hai qualche modo installata per poter avere gli esperimenti che hai messo sulla superficie di uno quello è un DLC che si chiama Breaking Ground è un è un'espansione ora vediamo come si comportano bella madonna addio beh si è comportato bene help fermati ovviamente si è girato dalla parte sbagliata ok batteria a voi e ne abbiamo un botto vediamo come si comporta questo ah questo non l'avevamo impostato giusto o ripido ma va bene sgancia il robozzolo ovviamente è troppo largo aia mi sa che è partita la live si dobbiamo allora tutto posto ragazzi tutto regolare dobbiamo allargare questo e mettere un decoupler non abbiamo un problema mettere un decoupler per staccare il lo scudo attenzione attenzione sta per iniziare per adesso la metto in piccolo appena inizia lo vediamo quindi cosa dobbiamo sistemare dicevamo il decoupler per questa stronza perché se no si cappotta tutto e non è un problema il decoupler però lo mettiamo così shit lo mettiamo qua così cosa dobbiamo a meno che non ci sia un tasto per no non c'è un tasto per sganciarlo ma nasa di gomma molto spesso trovate su youtube delle live della nasa che poi alla fine non sono live sono perculate per fottere un po' di visualizzazioni la gente lì che taglia a guardarle pensando di vedere veramente la live della nasa dallo spazio ma non è così l'unico modo per sapere andare proprio a vedere la live della nasa effettivamente cosa c'è scritto allora ho notato che questa cosa non si sgancia dalla fairing quindi forse forse voi sentite l'audio no non sentite l'audio ok allora ciao ciao Grazie a tutti. 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 Funziona l'audio? Grazie a tutti. La lingua strana? 9 knot with periodic wave heights of about 5 feet that is all within flight rule limits and it should be a splendid day for Orion's homecoming. Ok, si è sottotituto indietro di un quarto d'ora. Ma va, non è un'impazzesima parola in questa... No, che non mi fa modificare la lingua, non me lo fa tradurre. Out in the Pacific aboard the prime recovery ship the USS Portland embedded with the Kennedy Space Center's exploration ground systems recovery team and the U.S. Navy is my colleague from the Kennedy Space Center, Daryl Nail. Daryl, good morning to you and as they say in the Navy, give us a sit rep on preparations out there. Daryl, good morning to you and as they say in the U.S. Navy is not there. Good morning to you, Rob. Ok. As you mentioned, 4-5 feet. We're looking good there. Let me show you the bridge deck where we are currently positioned. This is looking forward for the ship. I talked to Captain John Ryan who says that he currently has the ship in a racetrack going around the location near where Splashdown is just upwind of it so that the debris that comes down, that being the crew module and the parachutes, the forward bay cover when it separates, will be all downwind of us. Now, preparations are already underway. We can hear the helicopter engines running, so we have to take a live view of the flight deck. This is towards the back of the ship, where just five minutes ago the Navy started the engines on two of the three Navy MH-60s or Nighthawk helicopters that will be used for the operation. There you see them on your screen. The two helicopters on the left side of the flight deck, they will be involved in the operation. The third to the right is a backup helicopter. Now one of the helicopters will use the Navy's infrared targeting system, which will start looking for Orion at an altitude of about 50.000 feet. Should be able to quickly lock on to Orion's heat shield which should be still very hot after reaching 5.000 degrees Fahrenheit on the heat of reentry. The second helicopter will track the forward bay cover. A 1.000-pound, 9.5-foot wide titanium cover on top of Orion which protects the parachutes during the heat of reentry. It is jettisoned to allow them to come out. Now NASA's plan going in was to recover it, but they've made an adjustment due to the seas and the limitations of a small boat crane needed to lift it out of the water. Both helicopters, if you can see just to the left of that helicopter at the bottom of your screen, have GSS cameras mounted to them. These are ultra-high-def cameras to record 8K resolution video for engineering purposes. Now with those helicopters just minutes away from flying out, let's take a look underneath this very flight deck, you can see into the well deck, and this is the multipurpose capability of this vessel, the USS Portland. Down on the well deck, the final phase of recovery will happen. America. The Navy Dive teams of Navy divers are preparing to launch the small boats. You see them at the bottom of your screen, just partially protruding there at the bottom. Those are inflatable boats that the Navy will use. Six in all will pre-position themselves in the open sea to recover debris from the descent operation and then of course secure the Orion crew module itself. The Navy dive team will also take above water and underneath water photography of the heat shield before the crew module is moved. This is for all engineering purposes so they can see it freshly returned from space. Once the divers have Orion stabilized with tow ropes, you see that bright yellow structure right dead in the middle of your screen? That is the cradle that the boats and the winch lines will pull into position and put it right down on top of that cradle. They will flood that deck with water roughly about six feet. And then with a careful choreography of winch lines and lines being pulled and maintained by sailors, they'll put it in position for its ride back to San Diego. Now coming up, we'll speak to one of the Navy divers who will be in the water helping. In fact, he's on deck standing by in just a few minutes. He's ready to go into the water. We'll get some words from him to go out on his assignment. Looking good on the ship right now. Rob, we'll send it back to you in Houston. Thanks, Daryl. And again, a live view from Orion. And the Daryl is the one that's pinpointed journey back towards its splashdown site, not far from where you are out on the Pacific. We'll be going back to Daryl Nail on the USS Portland frequently during the course of today's coverage. Orion is wrapping up, as we said earlier, a mission that will have span 1.4 million miles, having flown further away from Earth and any human-rated spacecraft designed to return humans to Earth. And of course, the big test that's coming up, the ultimate test of its heat shield, that will repel temperatures that will build up around the base of Orion to about 5,000 degrees Fahrenheit at peak heating, as Orion barrel back into the Earth's atmosphere. No, no, I don't want to do anything before you pass the asymmetry. It's been an incredibly successful mission for the Orion spacecraft. We'll be talking to a variety of people about all that, officials and managers and engineers throughout the course of our coverage today. But at the moment, let's take a visual and interactive look at this mission with NASA's Philip Hargrove, who will use the Moon Board to explain it all. Yes, welcome to the Moon Board here at the Apollo Saturn V Center. It's been a super exciting month since the Artemis I launch. So let's take a look back at everything that happened just a few miles away from where I'm standing right now. Now on November 16th at 1.47 a.m., the SLS lifted off from Launch Pad 39B here at Kennedy Space Center, and it put on an incredible show for everybody watching here from the Space Coast. I can't even describe to you how amazing it was to watch that core stage, those solid rocket boosters provide over 8 million pounds of thrust at liftoff. Now those boosters and the core stage got us going from zero to over 17,000 miles per hour in just about 8 minutes. And then once all that propellant was depleted, the responsibility was passed on to the interim cryogenic propulsion stage. Now the first job of the ICPS was to perform a parity raise maneuver, and this means that we're getting into a low Earth circular orbit that allows us to deploy those solar panels, start harvesting energy, and do systems checkouts to make sure that we are ready for our journey. And we stayed in that orbit for about 30 minutes, and then we did our translunar injection burn. This is the primary responsibility of the ICPS because it gives us the energy to escape low Earth orbit, and commits us on a path out to the Moon. Now once it completed that burn, the ICPS separated from the Orion, and it performed one final burn to completely leave the Earth-Moon system. And after doing that, Orion was on its way out to the Moon. So it spent about 4 days heading out towards the Moon, and then we quickly dipped in about 60 miles above the surface of the Moon and did an outbound powered flyby. Now that powered flyby means that we're taking advantage of the speed we already have, the gravity of the Moon, and the energy we get from the service module's engines in order to target our orbit. And the orbit that we were targeting is called a DRO, or a Distant Retrograde Orbit. And what that means is that instead of moving counterclockwise relative to the Earth like the Moon does naturally, we are moving clockwise. So we're going in this opposite direction. That's what retrograding means. and distant means that we are going farther away than we have with any human spacecraft before. We're orbiting about 38.000 miles above the surface of the Moon. And this is a really convenient orbit because we were able to stay there without having to use a ton of fuel for station keeping. And it also provides a safe efficiency of the future. So this allows us to learn how to operate in deep space, one of the core tenants of this mission. And then once we were ready, we started back home. So we have one more power flyby, this time targeting our return, where we lit up those engines as we dipped close to the surface of the Moon. And then we began our return transit, which took about seven days, and that leaves us to today. So next time we'll talk a bit more about what that return looks like, and what our entry is actually going to look like. But until then, back to you. Thank you. And then a live view of Orion, that's going in on planet Earth, and 11.000 miles above the Earth, as it continues a very very precise trajectory for a splashdown that is scheduled at 11.39 and 42 seconds a.m. Central Time this morning. For Orion's launch from the Kennedy Space Center that occurred on November 16th on the world's most powerful rocket, the Space Launch System, that fell down the Earth flyby, that fell down the Earth flyby, and five days later on November 21st, dipping to within about 81 miles of the lunar surface, that placed Orion on a very precise trajectory for its ultimate goal, that racetrack trajectory called the distant retrograde orbit, that would allow Orion the time and the space environment needed to test its metal. Four days later, Orion executed an engine firing to enter into that orbit, and the next day, Orion surpassed the record set during Apollo 13 52 years ago for the greatest distance ever traveled by a human-rated spacecraft designed to return humans to the Earth. On November 28th, Orion reached its farthest distance from the Earth, some 268,000 miles, before departing the distant retrograde orbit on December 1st. And this past Monday, Orion conducted a three-minute, 27-second engine firing behind the Moon to whip around Earth's closest neighbor for the final leg of its flight, passing to within 80 miles of the surface, turning for home, and its splashdown that is scheduled just one hour, 21 minutes, 44 seconds from now. The initial mission of the Artemis I program was always designed to be a test flight, ringing out all of the systems of the Space Launch System and the Orion spacecraft. and for more than 25 days it did just that, setting the stage for a crew to board an Orion vehicle for a trip around the Moon in two years. So back, out in the Pacific, where Orion will be splashing down not long from now, we're going to go back here in a moment to Daryl Nail, who is standing by with one of the first persons that will actually be in the water to execute the recovery and the securing of the Orion spacecraft. Daryl? Boh, I don't know, 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 I don't know. That's right, Robin, his name is Wayne Shearer and he is the Navy Diver First Class aboard boat number two, he is the lead on one of the two small boats called Crix, which are essentially small inflatable Navy boats. He's just about 20 or so minutes away from getting into that boat. Thank you, Wayne, for coming up here and making some time for us to tell us about the operation today. So tell me exactly how your team goes about securing this spacecraft after it comes back from space and splashes down the water just a few miles from us. The sequence of events are going to splash down, way two hours, we're going to do an analysis and there's no gas coming off of it, we're going to come up and take those pictures, like you said earlier, for those engineering purposes. Once that's done, then we put the what's called a pony collar on it, and then basically it's a sequence of events of pulling all those ropes out like you said earlier, and pulling it into the well deck. Easy day. Easy day, and we know that there are certainly going to be some challenges, right? Seas are four to five foot currently, which is within your limit. Let's take a look now underneath the well deck to the boats that are currently being prepared. You're really, literally going to be going down here and right to that boat after we conclude our interview. How will you manage the four to five foot seas with a bobbing spacecraft and bobbing inflatable boat with your team? Well, it's just another day in the park for us. You know, we've trained for the last year and a half for this. We've been in four seas than this recovering anything under the water. It's just different. Instead of recovering something from under the water, we're going to recover something that fell from the sky. You can see on our screen, those are the tip edges of your two inflatable boats. I imagine you'll be positioned somewhere towards the front or back. All right, this maneuver should be done well, because otherwise, you'll be able to spread the data. I'm sorry about just the importance of it. Reflecting that it is you who will be one of the first people to put your hands on a spacecraft that just came back from space. I mean, definitely, this is probably every kid's little dream, or every little kid's dream to be able to do exactly what I'm doing today, you know? And I think I can speak for the whole dive team that we're honored to be part of history and to be part of something so monumentous. Distanza to the water, you can make it easier to do this. Yes, 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 that's what we're talking about. But this is in corporea. No, it's cool. It's cool. It's cool. It's cool. It's cool. Now that you're on this operation, we're back at that choice. Well, February 2003, from Leesville, Louisiana, and I heard a loud boom outside my window one morning, and I ran outside and talked to my dad, and a few hours later we were watching the news, and unfortunately what we heard was the USS Columbia break up. So, you know, it was not a great thing to hear, but it kind of jumpstarted my career of like, hey, what do I want to do? And I wanted to be out there and help people, and the Navy just kind of fell into my life. It's definitely a tragedy for NASA, one that has created many lessons learned for our agency, but interesting that it led you into this... and... We... We're... and briefly, Wayne, you're going to use a conversation where you will literally be in the water in just a few minutes. You will be sharing any words with your team? Uh, good luck. Be safe and let's be part of history. Allora, speriamo il migliore. Wayne, grazie per prenderti il tempo e buona luce qua. Grazie, signor. Rob, vi ringrazio a te. Ok. Ok, quindi si può. Che bene i pelucini sta al gioco, si. Adesso fa lo su Eve, con la gravità di Eve. Basta che si collega, poi in teoria questo dovrebbe estendersi. E dovrebbe spedire l'ascenza direttamente su Kerwin. Beh, sembra funzionare. Adesso possiamo testarlo. Torniamo al lancio. Cioè possiamo testarlo direttamente su Eve per vedere se funziona o no. Ma non ho capito, ma... Avrei tutto appena a terra. In che senso? Che cosa? Madonna mia. Eve... Sarà un problema centrare... Sarà un problema centrare... ...della terraferma. Prima della scena... Eh... Sì, sì. Vabbè adesso l'ho fatto giusto per. Deploying the backup chute after you deploy the first two chute is you have to negotiate the chute that's already out there. So what we chose to do, and what Apollo chose to do, was to deploy the backup chute with the main system itself. And as a result, we get a much softer landing when all the parachutes work properly. But both systems were designed. Guarda l'atmosfera come ci vu c'è qua. Adesso sarà il pezzo più difficile. Ah, questa per esempio non ha segnale, vedi. Bisogna vedere se... No. Vedi, segnale bloccato. Segnale bloccato. Eh, 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 eh. Posso solo accelerare. Disaccoppiare questo. Ma non ha il controllo. C'è assurdo che non posso fare il controllo, ma posso dire di andare retrogrado. Andiamo a cominciare a pregare, sì. Puntoni, parte più pesante. Io ho un po' paura, però. Altitudine facciamo più possibile. Più possibile. Più possibile. Più possibile. Più possibile. O il culo che ho finisco nell'acqua. Eh, però come faccio a... Dovrei mettere... No, vabbè. No, vabbè. Ma finché tieni retrogrado... No problema. Però se devi fare qualsiasi... Modifica del corso... Eh, viene fuori un casino. Forse scendiamo su terraferma. Senza? Putzino facciamo male. No, anche tra gli ок Magna avasta ter todo il risum anderes. Qu'è invece di essere trensi troresso? E poi, con conseguenza, la operazione del nasce. Perfınd staringare che anche davanti per due mesi che sportevano quando abbiamo acciono questi o peli in moltissimipersi? Riccatele 그 modi delleurze. So questo test è la terribilità delhasilo per tu ricordo. È realmente più pianissimo che per l'aut tentarne oper att miteDie. ные figure mesmore per noi Ma che per le nuvole! Se non ci fossero queste sarebbe più facile. Il nuovo legato della generazione Artemis e questa missione oggi. Bubbles! Grazie a tutti, Cathy. Cathy Kerner, l'administratore dell'esplorazione dell'esplorazione. Siamo arrivando alla fine della strada di questa prima missione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Si, se possibile. Daryl Nail, da Kennedy Space Center, inoltre imbedito con gli sistemi di esplorazione e team di recuperazione Ah, con una live, ok, aspetta, aspetta qui Le bolle sono una feature di Parallax Allora, dicami un po' del motivo che sei qui e quello che stai facendo quando hai osservato l'operazione Si, ovviamente, siamo qui perchè la prossima flight di Parallax Dovrei modificare proprio dal GFG, proprio per rimuoverle, perché non mi sono mai piaciute Millimetri, possiamo aprire gli altri paracadute E con questa capsula di recuperazione oggi, sarà tornato Mi immagino che gli astronauti saranno molto interessati nel datato che viene da quella Mi immagino che questo particolare ha dei sensori all'interno Più di più che nessun futuro Sì, assolutamente Sì, assolutamente Sì, assolutamente Sì, assolutamente movimento Sì, assolutamente Sì, assolutamente Sì, assolutamente Sì, assolutamente Addio schiappe del sistema solare Molto gnaw Probabilmente Ma probabilmente Extrattere la crew Via helicopter C'è tra l'altro il resto non esiste più C'è rimasta solo la fairing Con questo Va bene Vabbè Ok Come non fosse successo niente La storia di Voyager in 5 secondi Secondo me è dovuto A questi qua Bloccata si Bloccata si E' un grande senso di rilievo In che qualcuno Stia preoccupando tutti i dettagli E io Posso sentire e rilassare un po' Allora Funziona Il sistema di atterraggio Teoria Questa è bloccata Questa è bloccata Questa è bloccata Eh ma... ragazzi avete assistito a un viaggio in testellare, a velocità della luce, cosa assurda. Ora questa cosa dobbiamo sbatterla sopra a un mezzo e la porti direttamente su Eve e questa è la parte difficile. Ok, devo farlo anche un po' più alto in realtà. Ok. 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 3.300 metri al secondo questa cosa qua, dovrebbe essere quella che ci porta lì. Che vuoi che sia l'accelerazione di qualche milione di G, e beh, insomma. Adesso, ditemi se il volume dell'analisi è troppo alto, ve lo abbasso nel caso. Ok. 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 1.312. Ok. Ok. 2.312. Ok. Ok. 2.312. Ok. Ok. 4.312. Ok. Adesso. Adesso, su questo coso qua, o sotto, dovremmo mettere un ripetitore da qualche parte. quindi, in realtà, dobbiamo trovare un sistema per sganciare questo cazzo di ripetitore. prima che questo vada ad orbitare, chiaramente. Quindi, ehm, sto pensando, dovrei fare tipo una camera qua dentro, come ho fatto con l'altro, con il ripetitore da 100G, così. La porta di lato, però poi non ci stiamo. No, pensavo di mettere la classica piastra. Ah, questa la lascio qua. Sì, potrei fare una cosa del genere. Aspetta, fammi riflettere. Dov'è la piastrona grossa? Sì, abbiamo fatto questo per... ehm... Since... Since, ehm... The end of the shuttle program, ehm... Piccola. 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 La piastrona grossa. Che fine ha fatto? Niente, mi servo a farla io. Ss. Non c'era un coso, c'era un coso procedurale che se non ricordo dove cazzo... Qua. Ok. Questo qua. Sights, lo facciamo così. E questa la spostiamo, se me lo permette, qua così. Sì. Ok. Potremmo fare gli strutturali come un'altra volta. Allora, qua ci mettiamo un sistema di controllo. No, viene fuori un casino. Però ci serve uno strutturale da mettere qua. Con sopra il sistema di controllo. Una action wheel. Facciamola così. Leggermente compenetrata. Questo adesso lo spostiamo qua al centro. Ma perchè c'è una voce che trema? Arrrr. Capisco se è in mezzo o non è in mezzo. Non proprio. No, non è in mezzo. Che sbatti. Le mette sempre o di qua o di là. Mai in mezzo. Che sbattimento atomico. Tutti i dati. Ehm. Si sta pensando come metterli al centro. L'unica è questa. Non mi piace molto. Posso fare. Ok. No ma C ok. Però non so se è al centro davvero. Capito? In mezzo. Lo so che posso premere C e modificare. Non so se proprio in mezzo. Ok. Forse abbiamo sistemato. Qua c'è lo spike che si congiunge qua. Vabbè. Più o meno. Più o meno. Più o meno in mezzo dai. Va bene. Qua dobbiamo metterci delle batterie. Chiaramente. Perchè sennò va a finire male. Tac. Aspettavo più piccola. Ok. Ok. Ah questo era il famoso tappo che avevo usato anche l'altra volta. Aspetta. 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 No però non posso farla così. I mortacci su. Vabbè ma lasciamo io il tappo. Chi se ne frega. Non hai piaciuto il motore che ti danno? Sì forse ce l'ho. Però non so se. Ah però in effetti sì è vero. Però la piasta motore a me serve. Collegata lì. Ecco diciamo. No. 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 Fa culo l'osservatorio di merda. Sì la piazza motore va bene ma c'è questo problema. E' che. No. Sai che forse. San Diego California. Ok. L'unica cosa che ho paura che poi impazzisca faccia cose strane. C'è una cosa che mi preoccupa di più. C'è una cosa che mi preoccupa di più. Ci sta dentro questa? Sì ok. Sì. Va bene. Solo che questa poi rimane a fluttuare qua. che non mi piace molto dovrei mettere quella doppia. Così. Sperando che si stacchi decentemente. Il problema però è che. non posso lasciarla così. Perché questo affare qua si deve staccare separatamente. Quindi. Questo qua. Va bene. Lo lasciamo qua e tanti saluti. Mettiamo le batterie. Così. E qua ci dobbiamo mettere un mini 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 di drone. Che possa fare questo lavoro. Magari facciamo una piccola docking port. Ci mettiamo un micromotore. Più piccolo ancora. tipo questo qua. Senza copertura. Con. Un piccolo serbatoio. Un po' più grosso magari. Troppo grosso. Così. Sistema di controllo. Minimale. Non ci serve chissà che. E dei pannelli solari. E. Delle RSS. Solo. Però. Di qua. Ok. Intanto. si rimuove sulla destra sinistra e qua sopra questo poi ci serve anche un'antenna un paio anzi due vediamo aperte come stanno benissimo rcs come fai a sganciare il ripetitore senza aver sganciato il primo sabatoio lo sgancio da qua ah tu dici per la failing è quello che mi stavo preoccupando prima per quello che stavo usando la failing allora annaggiate che mi dici di usare la failing mannaggissima ok questo lo eliminiamo via vedi che devo usare a fine dovevo usare la failing questa forse è grossa questa troppo piccola via di mezzo non c'è questa qua questa la spostiamo così così sperando che non esploda anche questa perché sarebbe da piangere perché non si collega ah perché c'era già quell'altro ok e qua siamo appunto a capo in realtà so back in 2019 was when they were first integrated and pieced together in 2020 was when they were fully assembled including the solar panels and the protective fairings that protect them during the operation anzi in realtà sai che ti dico probabilmente si può usare la piastra motore quindi una più piccola togliamo la copertura no non va bene niente dobbiamo tenere questa cosa qua dobbiamo tenere il pezzo qua strutturale way hotter way faster than we've done before so we need some new heat shield technology and we also need some additional hardware in order to slow us down and make that really happen so let's talk about what that looks like so this forward segment of the Orion crew module is called the forward bay cover and this section is actually designed to completely be pulled off by three parachutes so we have three parachutes that's gonna pull that off we have two drogue parachutes that are gonna come out after that to slow us down a bit we have three pilot parachutes that are gonna pull our mains out and then the stars of the show are three main parachutes that measure up to 116 feet and mettere i ripetitoli sopra vorrebbe dire so now that we know a little bit about what that hardware looks like we can take a look at what the journey after it looks like so no we have some mobility in transit and then we approach the earth the service module and the crew module are separated from one another and the service module is going to burn up in the atmosphere above the precipitation sperando che poi non miliare i problemi di vario genere mettiamoci l'rcs and then we have a little bit of water and point that heat shield towards the atmosphere as we target reentry so a really important phase here is the interface entry this is an altitude of about 4000 feet and this is where we try to find a lot of our control conditions anche se non è che mi serve quale batteria per mandare avanti sto coso però ok quindi questo teoricamente dovrebbe staccarsi usare l'rcs e levarsi dalle palle e poi continuiamo in realtà la fearing qua non servebbe neanche ci sarebbe una fearing più larga per chiudere il payload e nient'altro no vabbè in realtà no in realtà si mamma mia si affondendo la faccia allora il tappo andava anche bene in realtà questa arriva immaginate che qua sotto c'è tutto il suo carburante arriva in orbit in tonno si apre la fearing questo esce e se ne va poi si stacca il tappo si allora questo se ne va poi questo farà deorbitare il pezzo si stacca il tappo e dovremo essere a posto in teoria non serve neanche questo tipo di tappo qua ma serve quello normale ok quindi tecnicamente non è essere a posto così facciamo l'AT4 sperando che non si crippi niente in modo strano tac questo si separa noi ci giriamo per raggiungere il 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 però io faccio un'altra cosa tanto che voglio la cosa un po' più realistica usiamo comunque questa qua che è la l'alba l'alba in central time 9 39 42 sec pacific time un thing worth noting is once ryan splashes down in the pacific it will stabilize in one of two positions either pointed up which is called stable one or pointed down in stable two the crew module upwriting system known as the cmus deploys a series of five bright orange helium filled bags on the top of the capsule that will either flip orion right side up or keep it right side up in its stable one position those five bags are packed in hard containers and installed atop the capsule inside the structural gussets between the parachutes and other equipment they're inflated with helium vessels located close by the bags each bag has its own independent inflation system the CMUS or crew module upwriting system initiates after landing and opens up a valve for helium to flow into those upwriting bags it is considered operational that we have four out of those five bags to inflate to maintain a stable one configuration for Orion to enable Navy divers to approach the vehicle one of the first things that they'll be looking for is any leakage of toxic gas or toxic fuel from the vehicle assuming there is no such leak and that Orion appears to be in good shape then they'll begin the methodical process of approaching the vehicle with other personnel and other Navy assets ok this is what I wanted to do to create a piccola cabbietta inutile ma è carina secondo me ci sta adesso la failing elimina costruisci così ok quindi questo affare dovrebbe teoricamente arrivare su ora cisternona oddio non abbiamo cisterne gross è da piangere oddio abbiamo cisterne piccole fa niente usiamo la cisterna grossa qua in mezzo e rituriamo l'ossidante e ci mettiamo intorno questa un po' clippata dentro anzi ci mettiamo dentro anche torniamo l'ossidante no però pensavo di non so se nucleare va bene farlo potrebbe anche essere un po' esagerato per quello che dobbiamo accivare anzi guarda facciamo così ci mettiamo dei pannelli dei pannelli solari easy pizzi proprio e ci mettiamo qua sotto l'RCS ok qua sotto ci mettiamo un'altra cisterna e il motore che teoricamente dovrebbe portare questa roba intorno a EVE prima intorno a EVE funzioni tutto bene si posiziona in orbita molto larga intorno a EVE in modo da avere una certa copertura ma non credo che riusciamo a fare una geostazionaria intorno a EVE o secondo me non si riesce però vediamo facciamo uscire questo poi vediamo quanto carburante lì rimane potremmo mettere qualcosina in più di cisterna volendo questo non è poi così male tutto sommato perché comunque ci sta lo stesso questa la posso far scendere un attimo devo rifare la failing però facciamo scendere ancora un po' di più si sa mai devo rifare la failing ok rcs quello grosso vediamolo un po' di più ok che altro si ok ci siamo vediamo quanto delta via questo a fare ovviamente con il motore lì 30 secondi fino a separazione questo arriverà a un'altitudine di 3200 statute mili un po' little break potremmo usarlo con questo ma esploterebbe sicuro in pochissimo tempo quindi dobbiamo cercare di fare una territoria più più aspettate che passo a questa proprio dovrebbe staccare il modulo confirmation confirmation of separation confirmation flying on its own again the separation occurred right on time at 11 a.m. and 11 seconds central time with Orion 3200 statute miles away from earth the service module the European service module has done its job in modo il servizio europeo ha fatto il suo lavoro ah una navball sì ma oh che ho messo non fate un cacchio dov'è il cosa della separazione non ce lo fate vedere guardate come in alto negli schermi fianco a mission control center ah ok sì stanno guardate che è la capsula guardate come gira sulla navball sta girando sta girando sta girando se stessa praticamente sta girando se stessa praticamente sta girando ah si è girata ok per andare mica stanno giù parecchio in picchiata bene mentre loro continuano noi continuiamo ok mettere il secondo di questo come fa avere 39 metti a seconda non è vero eh perché non mi consideri come fa avere 39 metti a seconda che cazzo stai a dire ma ah giusto ma no c'è l'ossidante guardalo c'è qua ma ha 32 metti a seconda c'è qualcosa di buggato oh che palle perché è impazzito con questo sicuro sicuro andremo alla cieca ragazzi molto alla cieca se io tolgo questo che succede vedi abbiamo 3894 metti a secondo che va bene mettendoci questo qua impazziscono vabbè non sapremo mai è mai sistemato lo staging però te vorrei mettere questo attiva stadi e metterlo qua ma comunque è impazzito lo stesso quindi vabbè pace questo 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 poi se ne vanno via poi c'è questo ok vabbè comunque 3800 dovrebbe essere buoni dovrebbe essere sufficienti per arrivare su ora ci serve qualcosa che ci porta possibilmente più vicino possibile in la vita solare quindi una bella il decapperone zio decapperone la fearing nella fearing nella fearing ci sarà una serie lunga di fearing questo qua anche perché questa roba adesso dobbiamo chiudere dentro un'altra fearing se tu la smetti di espanderti a cazzo magari mi fai un favore costruisci missilone pronto 4 forze esplosione piuttosto grande azione a valve e nasconde ok adesso questa schifezza da 123 tonnellate deve essere caricata ce la facciamo con la con liquid tank a farla abbastanza valga oh si meglio la specie di saturn verrà fuori ragazzi qua sotto ci dobbiamo mettere un botto di motori tra l'altro quindi possiamo attenerci allo standard dei vector dato che adesso ce li abbiamo così i vector pro sono mille in realtà sono più forti questi qua mille no aspetta in atmosfera hanno novecento non sono neanche così potenti dopo tutto penso che abbiano bilanciato anche sta cosa sto vedendo qua 1379 poi c'era anche un altro mega grosso che non ricordo dov'è ah questo in atmosfera addirittura 1.2002 240 dove è l'altro cicciottissimo che ho trovato altra volta questo ah no questo è l'altro ok la texture ah si ok no no non ho capito ah questo qua è quello però mi sa che questo qua è quello piccolo tra l'altro cioè vedi mi sblocca quello ma ma non me ne faccio niente dopo tutto quindi io devo andare a prendere questi qua che hanno una marea di di guerre 3.377 quasi perfetto per fare un'orbita a 80 km ma vogliamo dargli qualcosa in più quindi mettiamo dei dei busti di guerre però 1.41 il TBR non è tantissimo partendo dal suolo dobbiamo aumentarlo puntoni stavolta mi esplode il PC me lo sento anche perchè il missile 8 sopra è anche abbastanza grosso e bisogna stare attenti a questa cosa abbiamo lo signal e abbiamo tutto ok possiamo fare sistema con questi che ci può stare da mettere di lato ne mettiamo due proviamo così così ci rimane un bel po' di carburante poi la stage centrale li mettiamo così cisternonzo questo motoronzo questo qua girato così bam mettiamoci stennonzo un po' più lungo però così eh ah mi sa che ho sbloccato il capsule 8 quello quello intermedio io ma non c'erano questi qua ah si ci sono questi ma sono quelli più grossi peccato che non ci siano questi qua punta anche per questi ma vabbè sarebbe stato figo da inserire però non ci sono quindi questi qua li lasciamo così bianco bianco precisissimo lo dobbiamo collegare come al solito ma perché la mega fearing perché è dentro cioè la testa della capsula ah tipo il paracadute altre cose non vorrei che poi mica i problemi di aerodinamica quando usciamo dal Kerwin a 11.35 a.m. central just about a minute before forward bay cover shoot deploy begins the series of 11 shoots three that will pull the forward bay cover off of the top of the crew module that'll be followed by the deployment of the drug shoots and then the three large main parachutes three orange and white parachutes that'll be the moment we'll be waiting for orion now 28 and a half minutes until splashdown 28 and a half 28 28 minuti per lo splashdown vittura ora pam 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 ma c'è anche questo così 1.52 va bene questo non ci interessa ah questi sono i razzetti di separazione e questo è l'altro questo qua sarebbe il motore da sopra se vado corretto quello del satellite ah ma che roba complessa questo è l'altra fearing questa fearing è quella che ci interessa per prima quindi la spostiamo credo non puoi cambiare il colore tipo cambiare il nome che Allora, vediamo un po', la potenza dovremmo avercela Farà un casino in mane, preparatemi Crump Non ho guardato neanche No, ho sbagliato Questa, mettiamo giù i sei motori Se ce n'è tutto Si staccano le clamp Va, quando ha raggiunto Quello va a raggiungere Quindi si staccano i separatori Dovrebbe rimanere questa cisterna da sola Adesso ci mettiamo anche un RCS come si deve Questa qua Dopodiché Si apre la fearing A un certo punto Questo è, diciamo, puntoni Puntoni Dicevo, questo si apre Così Poi si dovrebbe accendere questo motore qua Che dice 32 ma in realtà dovremmo avere molto di più È assurdo che dica Ah, no, 3.300 Ok, perfetto Si accende questo motore 32 metà al secondo Non capisco Perché è impossibile Che sia così poco E andiamo avanti A un certo punto Arriviamo Arriviamo in orbita intorno a Yves Stacchiamo questa fearing Che era quella del satellite Che è questa Dopodiché Scendiamo di quota Dopo avremo lato Questo affare qua Ah, tanto questo si è spostato Aspetta Wait, wait, wait Wait, 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 wait Tac, tac Ok Si stacca questo 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 è un'altra cosa Questo è un'altra cosa E questo è quello del descending Allora, ok Questo è, ok Il decappler è per staccare l'affare Il motore Quindi Sarà dura Però non può staccarsi prima Della fearing Se no fa una fine eternificante Quindi fearing Arriviamo lì Decappler Quando mi ha fatto quello Sganciamo Questo qua E poi finalmente può scendere giù Ok, in teoria dovrebbe Dovrebbe farcela Cazzero È tutto in mano a Un piccolo sistema di Vabbè Amen Speriamo che vada tutto bene Allora Ci mettiamo anche Dell'RCS Eventualmente In caso dovesse servire Qua però Quello col Vernor Che è un pochino più potente E possiamo provare A lanciarlo Ragazzi Preparatevi Perché farà un bordello assurdo O perché esplode O Perché funzionano bene i motori E andiamo Direttamente Su Yves Fatemi controllare Se manca qualcosa Batteria L'abbiamo Allora La cosa che mi preoccupo Di più sono le fearing Che magari Quando si aprono Fanno esplodere qualcosa Vediamo Vi abbassa l'audio del gioco Perché sicuramente Crea dei problemi Within seconds After reaching Entry interface We'll begin The first of the Two blackout periods That will last Just under five minutes About four minutes And 48 seconds And 49 seconds Allora Let's do And 49 seconds Allora E qui c'è la traccia di 4 Orion, mentre si passano bene all'estero della America Sud. Siamo solo 1 minuto e 44 secondi da l'interfaccia dell'interfaccia, passando dall'estero all'estero all'estero del target dell'estero di Baja California. Baja California. Ah, dietro la California a terra. C'è, Splash. A Kerbal praticamente, stanno giocando a Kerbal anche loro. Pronti a fare casino? Un minuto da l'interfaccia dell'interfaccia dell'interfaccia. Siete messi l'audio troppo forte. Più che altro se l'audio di gioco copre quello dell'Orion, eh? Siete messi l'audio, eh? O di nuovo? Siete messi l'audio. Interface in the first of the two blackout periods. We are now in the entry phase. Entry interface has begun. Entry interface at 400.000 feet Orion traveling just under 25.000 miles an hour. We've gone into the first blackout period this is a visualisation based on what should happen at the moment, the temperatures around the heat shield are reaching about 5.000 degrees Fahrenheit. This is the environment for us. The Orion. The Orion. The Orion. The Orion. What else? Oh, we have two things together. Kerbal and NASA. It's just under 4 minutes from now. If you want to continue on Kerbal with this little one, it's okay. If you want to take this big one until you don't see the splashdown. Orion should be traveling about 23.326 miles an hour at the moment. Range to splashdown 3125 miles. Again, this is a visualisation of what should be happening with Orion at the moment. And in a blackout period. It should end about 3 minutes and 15 seconds from now. You see, because... Allora, the concept is that if you... From this first blackout period we will conduct the skip entry maneuver that will further dissipate the heat and energy and begin a very dramatic reduction in the velocity of Orion that marches at splashdown. You sea, are coming to All of the streets. When you look on the distance. You're moving through. Only a degrading or will move through you have to flow to the disperse. Of course. You're moving to the distance. You're moving along with you. Off пор, you've gotten a trembling Steel 4 il traverso quindi la forza che ti spinge qua tende a farti fare questo giro qua no a farti fiumare quindi a questo punto che ti serviranno le failing dietro per controbilanciare questa pressione e viene tutto anche dal tipo di approccio che tu hai nella traiettoria che cerchi di seguire cioè ci sono alcuni razzi che sono molto veloci quindi riescono subito a posizionarsi molto inclinati per prendere velocità esagano gradualmente quelli più pesanti che vanno un po più lenti magari come il mio devono salire un pochino più ripidi e poi lentamente quando sono in alto adesso io 30 km girarsi quasi orizzontali però le fins servono solo quando vedi che il mezzo è molto lungo o è strano magari i motori che hai messo sotto non hanno questa grande capacità di gimbal non hanno molta potenza in generale ho anche una buona reaction wheel ma in generale reaction wheel fa ma non tantissimo quando hai l'atmosfera che ti spinge addosso quella la devi sfruttare più possibile quindi devi cercare di mantenere un vettore più progrado possibile e inclini e aspetti inclini e aspetti inclini e aspetti perché se inclini troppo in fretta hai presente l'aria che ti schiaccia la failing non ci vai di punta a a perforarla ma ci vai praticamente di lato e questo non va bene e quindi le le alette servono in in questi casi ma in realtà non sono fondamentali se hai costruito bene il razzo adesso esplodo facendo figo di merda però adesso sto cercando di ritenere il progrado naturalmente ecco stare così a 18 km è un po' pericoloso c'è inclinarsi troppo quando superi 25 30 l'aerodinamica è meno influente quindi puoi cominciare a inclinare vedi che il mio razzo guarda la scia è così io punto più in alto rispetto alla traiettoria effettiva infatti se vado più giù il cieco retrogrado le forze dinamiche influiscono un po' meno perché vanno a la mia failing va a tagliare proprio l'aria come si deve tipo adesso arriviamo a 80 km sto un po' più alto per sicurezza così ho il tempo di fare la manovra cerco di arrivare a 100 circa non spengo di botto perché sennò rischiamo di far impazzire il tutto e mi comincio a preparare la manovra perché potrei non avere tempo per circolarizzare poi sperando di avere più che altro abbastanza delta 20 ora che siamo a 61, 63, 65 km infatti questo cosa non ha un io ho messo i vernor perché sono più potenti non ha un sistema di controllo dedicato con tutti togliamo la failing c'è non ho tutti i vettori di puntamento quindi mi devo arrangiare un po' come capita flight dynamics reports that orion is right on the money coming right down the pike a good view out of the cabin camera looking out of the upper hatch of orion sembra veramente la telecronica della mia mission non proprio ma sembra veramente la telecronica della mia missione non proprio ma bene good communication is established with orion the second blackout period to begin about two minutes from now i La monnezza nello sparso qua Eh si perchè le fenine creano una resistenza Quindi se tu vai Cioè ignori troppo Ok ci siamo Se ignori troppo il Come si chiama Il profilo di salita Questo qua Il progrado Che è due punto al tuo muso Quello che succede è che Come detto prima La fearing viene schiacciata giù Capito Se tu provi a lanciare una freccia Ok Che ha la parte della punta più pesante Tendenzialmente seguirà la punta Ma se la punta la fai larga così Ultraleggera Mettiamo caso che ha comunque una buona superficie di contatto con l'aria E' molto probabile che questa cosa comincia a fare così A sballonzolare Perché non c'è un bel equilibrio Finchè il tuo motore è acceso E rimani sul vettore progrado Non hai grossi problemi Quindi è importante che Tu consideri molto bene Se il tuo mezzo è molto lungo Il tuo razzo è lunghissimo E hai un buon motore dietro Con una buona gimbal Non hai tantissimi problemi Perché comunque c'è molta leva Tra il punto da trito sopra e sotto Quindi se fate delle fearing molto grandi Cercate di salire più ripidi Perché se no vi trovate a rivaltarvi F5 no Salvo perché se no poi non posso ricaricare Allora Orbita Kerbin Per Eve Ora Togliamo l'SS perché non serve Dobbiamo Uff Rimandere in orbita per Ah sapete che forse Forse siamo effettivamente 20 volte la velocità del suono La madonna Facciamo l'accelerazione temporale Per la finestra di lancio Cazzo però Adesso è bello lontano Ecco Questo qua E' la madonna Quanto ci vuole Come arrivare a Eve L'attrito Eh L'attrito con un rientro del genere Deve essere devastante E' vero che poi lo senti Principalmente dai Penso 50 km Cominci a sentirlo Ah forse perché eravamo già oltre la finestra di lancio Quindi ci ha fatto fare un anno di time warp Comunque Orion ha lo splashdown a 30 km Pensavo molto meno Riccola Penso che Per loro se La navetta sopravvive Cioè ce la fa Supporta E' meglio perché Di mettere meno paracadute Più peso utile da trasportare Invece che dedicarlo ai paracadute E puoi fare il mezzo più pesante Concettualmente Non devi alleggerirlo Per fare uno splashdown più morbido Sì beh insomma 30 km orari Non è tantissimo Ma neanche poco in effetti Sì In acqua Considera che però entrano praticamente Dentro a cozza E metti il secco Ok La sveglia è stata messa Adesso però io devo capire Dove fare La manovra Adesso ci sarà da ridere perché Devo trovare il punto In cui metto la manovra Perché o vado in orbita Solare direttamente E poi Faccio la mia La mia manovra Ok Ma la sveglia è finta Cioè in realtà Non è che È giusta È fintissima Mach 6 Mach 6 Orion Allora Prova del 9 Ce l'abbiamo per Per delta V Dei motore Che ho lì sotto Che dice 33 metri a secondo Ma è una cagata atomica Secondo me Non capisco Sta fine Se i lanci Secondo me Se la sono inventata Non è proprio vera Però vabbè Una cosa enorme Impattare 30 km Ti sembra tanto Ehi Per una volta Che hai superato La parte in orbita Che vuoi che siano Tenta Eh beh sì E' perfetta E' anche quello Subsonico We 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 Subsonico vuol dire Che siamo Sotto i 300 metri a secondo Tipo 900 km orari 1000 km orari Ho visto Un coso di paracalute Cioè questo coso E' stato nello spazio Per un botto di tempo Considerate questa cosa Sì è molto sporco Beh giustamente Rientra da Orion Orian Atwood I Sotto i disegni È qualcosa di spavoloso Sanno Sotto i disegni Sotto i disegni Pyros Sotto i disegni Sotto i disegni Si Penso che Comunque È un impatto Che siano Abituate a gestire Comunque È una bella botta Sicuramente Ma anche Il decollo Mi spiaccica Oh Paracalute Droves Have been deployed Droves Mi chiedevo anche Immaginate Se è dentro Una starship Sì No Non è tanto Però cazzo No ma Non stanno parlando Adesso Volume al massimo Il volume è al massimo La velocità È proprio Nel money Orion's Velocity Now Down to 282 Miles An hour Range To splashdown One and a half Miles Ten thousand feet Now Oh Bah Ah ma adesso ci sono quelli grossi Main parachute 5.000 feet Insomma Non li vedo confissi Ah ok Meno male E' in miglia E' una merda Perché non si capisce niente Pensa all'azienda Che deve Pensa all'azienda Che deve costruire I paracalute Che ansia Quanti secondi Sì mi fa un po' porra Quando si toccano Che si chiudono C'è sempre il rischio Che si avvolgano O faccia qualcosa di strano Spero io no Però Non so neanche se hanno Di paracalute di riserva D'emergenza Chi lo sa Forse si Tanto un paracalute pesa Pesa centinaia di chili Tra l'altro Tutta roba che togli Al Peso utile Trasportabile Quindi Nuvole Uh Ecco vedi che scende giù A cozza Praticamente Così Non scende piatto Scende giù a cozzina Aspettate che Sposto No però sono Sovrabbondanti Dice il appassionato Come paracalute Ah ne ha fatto partire In un'emergenza Nel test Della Boeing Sì no è come tu Farsi di pancia Assolutamente Perché riesci a Federe un po' L'acqua E non hai la botta Pam Comunque una botta 500 piedi Quanto è stato 500 piedi Ah non hanno fatto partire In un'emergenza Bello Anche perché In un'emergenza È Tipo 300 kg Eccolo Grazie 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 Tutto io Bene Possiamo Mi spiego molto No ho letto io male Ok Allora Torniamo a noi Chiudo la live Della NASA E finiamo Questa roba qua Riprendi volo Sì Rico Kaboom Oh santissimo Allora Madre de Dios Ci sarà da ridere poi col secondo stage qua Touchdown Sarà Non lo so neanche se ci sarà Perché Vediamo se vanno i motori Ah ho capito perché Perché pendeva il carburante di questo Veri Grazie. Ok. Guarda che bel capsulotto che abbiamo qua. Ora, dobbiamo ricordarci di mettere il carburante in questo nel caso, se ci ravanza, e poi possiamo spedirlo a svancularsi da qualche parte. F5. Togliamo l'SS e andiamo avanti. Oh, vediamo se possiamo cambiare qualcosa in questa traiettoria, per farci incontrare Eve più facilmente. Cosa dovrei fare, scusami. Posso impostare... Oh, grazie. No, vabbè. Andiamo in orbita sola, dai. Ok, adesso possiamo andare a impostare la manovra. Vediamo se possiamo impostarla qua. Sì, ma manca una vita, sta finestra di lancio è finta. Sono stato scammato dalla sveglia. Ma è completamente sbagliata sta finestra di lancio. Ma scusa. Sì. Io l'ho sempre detto che questa Alarm coso è sballato. è tutta sballata. Infatti. Aspetta, fammi vedere. Eve launch window. Sì, praticamente è dietro. Era perché mi ha... Che senso ha. What the hell? Cioè, dovrebbe essere tipo qua. Sì, praticamente è qua. Perché mi ha fatto questa finestra di lancio sballata? Va bene. Ho usato la... La sveglia. Finestra di lancio. Non è Alarm clock, è proprio la sveglia del gioco. Con l'integrata. Ok. Ok, vediamo se qua possiamo fare qualcosa. Priapsis. Ah, perché è inclinata male. Va bene. Ok. Vi faccio queste cose. Ok. Ehm... Mamma mia. Perché non siamo esattamente come se fossimo su Kerbin. Come... Come traiettoria. Quindi non riusciamo a beccarlo bene bene. Poi io sono mongoloide. Quindi... Vediamoci. Possibile? Ok. Dai. 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 assurdo eh sto pianeta è veramente una merda l'ho sempre odiato io adesso sapete perché e che capo i carval anche lui finché non è che ti aiuta con i comandi ok ci siamo qua quasi se io sposto di pochino questo si dovrebbe stimere anche senza farla si praticamente posso fare una cazzo di manovra pestata è assurdo non trova punto di incontro non lo devo inventare io si non lo trovo perché manca un botto tra l'altro ok 939 focus un po' lontanina dobbiamo trovare eh il problema è che vedi che è centrico chili è centrico e questo è un problema però fino a un certo punto noi potremmo mettere sì un cosa così però dobbiamo stare ben più lontani di chili quindi non lo so oh io lo piazziamo vicino e vaffanculo cioè ho quanti problemi io lo piazzo qua così quanti chilometri vediamo allora ksp if geostationary orbit sì ciao semi synchronous vediamo se la trovo addio atmosfera oh madonna ma c'è un sacco di informazioni qua dov'è 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 sì è lo so ma non si può dove cazzo lo vedo synchronous orbit ok 10.328.400 308.47 km 10 milioni la madonna 10 milioni è un bot però si potrebbe fare circa 10 milioni giù di lì poi dovremmo aggiustare un po' l'inclinazione perché non è bellissima 4.8 inclinazione eh sì 10 milioni 10 milioni è tanto eh e poi comunque andiamo a impattare qua quindi non si può fare in in sincrona non è fattibile per lo meno per quanto ne vedo io adesso eh magari mi sbaglio andiamo di un satellitone comunque abbastanza lontano che non crea troppi problemi questo ha un no questo non ha antenne Giorgio è pilota sì dai va bene così allora un F5 e acceleriamo sì 10 milioni scusa io ho messo chilo sbagliato io a dirlo l'inclinazione è meglio aggiustare la prima e poi fare la manovra d'incontro oppure poi gestare l'inclinazione no adesso prima facciamo la manovra poi appena ho fatto la manovra aggiusto l'inclinazione in modo che arrivo giusto mi posiziono praticamente ne uso mille solo per incontrare Eve che non ha molto senso perché teorica ah no perché non ho usato i 900 in teoria qua dice 250 più 130 più 10 per incontrare a 48 milioni di metri in realtà ne sto usando 900 che non ha molto senso ok fra 20 secondi abbiamo 1 minuto e 48 l'accensione all'incirca la transfer burn l'ultima volta che ho accelerato con sta navetta è esploso tutto ho accelerato il tempo con questa capsula infatti guardate qua non bello non proprio bello ma ok cesemo f5 t ora vediamo dove possiamo sistemare la nostra inclinazione qua più o meno ok 300 metri al secondo circa potremmo anche avvicinarci un po' in realtà perché poi per circolarizzare qua ci serviranno non si sa quanti metti al secondo non lo so mi sa che non ci conviene neanche sistemare l'angolo arriviamo direttamente qua e tanti saluti si si lascia così no non vorrei che poi rimane senza carburante dove avrei fatto tutto a capo duna eve eccoli là cazzo sono finiti va ah vabbè lasciamolo così allora le cose sono o mollo già adesso il il satellite no però poi deve circolarizzare meglio di no per iapsis 700 metri al secondo cerchiamo di tenercene 600 anzi no facciamo così teniamocene migliaia o circa dove cazzo è eve vabbè andiamo avanti a ghilio è la non vedevo più io salve ss andiamo qua quello che ci avanza lo diamo al ripetitore quello che ci avanza perché è inutile perché è un ripetitore vuoto perché avete se vi ricordate all'inizio c'era quel problema del trasferimento carburante che per qualche motivo si è abilitato e quindi lui considerava la cisterna del satellite come carburante a disposizione quindi pochissimo delta v e quindi Aspettate un attimo. Ok, no, mi saluto. Disattiva la camera, lo fa una roba. Allora. Finiamo la circolizzazione. Ok, va bene così. Ora, ci rimangono 1500 metri al secondo circa. Che mod è con in basso? Quale mod? Quale mod? Questa? Sotto la mia telecamera. No, non è una mod. Ah, dici dove... aspetta. Tu intendi questo qua? Questa? Questa? Questa è Distant Object Enhancement. Gialle verde. Questa? Ti dice che esperimenti scientifici puoi fare in questo momento. Molto comoda. Intanto si è followato... Hearbone69, grazie per il follow. Camera? Ok, ci siamo. Riavvia, cioè riavvia, sì. Riprendi. Ora, dobbiamo decidere che cosa fare con questo coso qua. XJack87, grazie per il follow. Benvenuto. Possiamo trasferire un pochino di carburante. Non è un gran problema perché... Comunque... Non stiamo parlando di chissà quanto carburante, dopo tutto. Possiamo trasferirlo da qua. Fuori, fuori. La madonna quanto ci sta mettendo. E' giusto per dargli qualcosina al piccolo satellite. E permettergli di... Oddio. E permettergli di... Svolazzare liberamente. Se magari si muovesse. Ok. Chiudiamo. Chiudiamo, chiudiamo, chiudiamo. Ora, facciamo un F5. Perché proviamo a staccare il... Il satellite. Il problema... Che mi è venuto in mente adesso... È che il satellite... È l'antenna... Del nostro mezzo. Che sono un pirla. Io devo mettere due antenne anche qua. E questo è un problema. Quindi è possibile che una volta staccato il satellite... Questo nostro probe non ha più... Un sistema di controllo. Infatti adesso devo vedere... Come fare. Vediamo. Allora. Sgancia. No, sembra avere controllo. RCS. E ce ne andiamo così. Voilà. Cosa cazzo è questo? Questo cubotto che ogni tanto appare. Ok. Questo è il nostro satellite. Che ha 1692 metri al secondo. Il nostro affare sembra avere una connessione. Non so da dove. Da dove la prende la connessione. Non ne ho idea. Però... Sembra funzionare. Bisogna vedere poi se funziona quando stiamo entrando in atmosfera. Questa è la parte più... Importante. Questa... In attesa. Blocato da... Oh, aeroshielding. Ok. Dalla sonda di... Come faccio? Ok. Operativo. Segnale comunicazione 098. Non è tantissimo. Non è tantissimo. Ora, questa affare deve riuscire a entrare in... L'atmosfera di Yves senza disintegrarci. E non sarà facile, ragazzi. Per niente. Se io imposto una manovra qua. Decellero. Siamo a 378 metri al secondo. Con 300... Ok, sì. Atterriamo a caso, eh. Io non so dove sto atterrando. Tutto chiaro qua, boh. Quanto è l'atmosfera di Yves? Scusate, devo andare in bagno velocemente. Grazie. Grazie a tutti. Eccomi, scusate, mi stavo pisciando addosso. Allora, vediamo. Io andrei giù alla cieca praticamente. L'F5 sicuramente poi lo faccio. Non mi ricordo l'atmosfera di Yves a che punto inizia. Allora, 90 km. Ok, 90 km vuol dire che possiamo scendere ancora. Allora, 103. Teniamola a 103, dai. 500 metri al secondo, se ne servivano più o meno altri 500, poi sì, dovremmo farcene in teoria. Un F5 e andiamo. Sperando di avere abbastanza linea poi per riuscire a gestire tutto questo. Ok. Addio. Ciao Ale, buon pomeriggio. Hai visto lo Splashdown di Orion. È tutto in mano. Però ci sono dei ripetitori, quindi... Boh, non so se intendono... Non lo so, non capisco. Ok, 100 km. 700 metri al secondo, sti chiazzi. Scegliamo di stare qua, più vicino ai 100 km, così poi è un attimo, scendere giù. Vai. No, il terreno è stato attento, ci sta dando segnale. Ed è una buona cosa, più che ci segue. Meno male, perché non era un casino. Madonna mia, che sperla. Petrogrado. E' un tuffo nel vuoto, mentre giù l'è in fondo. L'orbita inclinata aiuta? Beh, eh... Sì. Cono' sicuramente. Andiamo a cercare poi di atterrare più o meno in zona equatoriale. Questo è... Sarebbe la cosa migliore. Oh, intanto facendo così, posso vedere se c'è del terreno sotto. 21 secondi. Poi nel caso possiamo spostare anche i satellite. Accensione. Ok. Bello screenshot. E ancora non l'ho fatti. Aspetta, ma quanto mi ciuccia sta cosa? Basta. Teniamoci 500 metri a secondo per scendere. Ok. Ah, un po' di roba si vede. Quindi... Not bad. Al prossimo giro potremo scendere. Ok. Anche perché non l'abbiamo il segnale, se no. Ok. Non lo so. Non ho idea. Cazzo. Non si vede niente. Allora, se io imposto una manovra, ipoteticamente, no? Così. Tac, tac. Beh, li dico qua. Riapsis. Scendi. Eh. Discesa. Bersaglio. Non mi dice dove atterro. Farei un F5 qua. Ok. Bò. Forse con Carbon Engineer. Surface. Bò. Landing. Non so cosa sia, però vabbè. Andiamo sul retrogrado e speriamo. Speriamo con tutto il cuore di peccare una zona degna. mo. Vabbé. Vabbè. 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 pianure ok perfetto impact time ok 738 metri d'altitudine quindi tecnicamente adesso giriamoci così non ci troviamo fra i piedi speriamo che vada tutto bene una spinta vuole contraria rip se ne siete pronti adesso fattivico momento che cazzo è questo un altro di quei cubotti strani ah ok oddio merda in teoria siamo già in atmosfera non tieni conto dell'atmosfera molto male è al limite che abbiamo se l'appassionato se teniamo male è colpa tua io mi sono fidato di carbon engineer ha detto ah si andiamo sulle pianure no per l'altro quel traietro is non non mi dice dove dove andiamo impattare e come si chiamano posso vedere l'attitudine che che bioma è questa è l'unica cosa che posso fare dobbiamo accendere il rcs che non si sa mai si esplode qualcosa piango ma come scende l'abblatore oh in simulazione non era così ma poi scusami angolo di apertura non ho citativi no no ok e gabbiano non so gabbiano insoltre quello che dava le idee mi sono servito in alcuni casi eh non possiamo ignorare il fattore estetico scusami hide marker anche perchè il marker beh neanche tanto distante in realtà eh quindi traiectories aveva previsto bene teoria basso piani forse anche meglio i basso piani acque ti prego non acque basse no ti prego no no se andiamo in acqua per un metro bestemmio ragazzi mi sa finiamo in acqua melisma donno e dovremo rifare il re-entry si ma gli rcs non è che mi portano chissà dove non so neanche in che direzione devo andare non vedo niente non cambia neanche il punto d'impatto non vedo niente non vedo niente non vedo niente Devo vedere un po' Eh le nuole sono belline Sono finte perché vedi che si muovono man mano che mi muovo io D'ora che arrivano quelle volumetriche Deve essere strabello Quelle belle volumetriche che sta progettando BlackRack Il autore di EVA Redux 10 km L'elevazione del punto di atterraggio è a 500 metri Come può essere? Dal livello del mare Allora non può essere in acque basse Allora un'altra aperta il primo paragrauto E forse riesco a muovermi se manca qualche metro Vogliamo vedere delle bolle Ma non d'acqua Possibilmente Suspense Esatto Suspense Sa come si pronuncia Bolle Buon segno Buon segno Bolle Buon segno A fanculo che erba l'ingegnere Attiva Che cazzo mi ha fatto spaventare Perché un dondeggia così? Questo dovrebbe schiantarsi Ah ma ce ne è veramente piano qua All'ultima volta che ho velocizzato Esploso tutto Quindi ragazzi non velocizzo Mi dispiace Ma devo tenerlo così A meno che è salvo Cioè o c'è dell'acqua anche qua sotto Ma per lui no Non andate a terra dei piatti E non nell'acqua E non andate a terra dei piatti Rallentiamo dolcemente il time warp Ma tecnicamente abbiamo connessione Quindi ci sta Cos'è che c'è lì? Guscio Baggi Addirittura è connesso con Duna Addirittura La Marron Il Triangolo No fa niente Voglio tenere la fearing Perché non voglio che questo Quando lo stacco Mi vada a bruciare magari il rover Per qualche strano motivo Infatti questo si deve Staccare Prima di aprire la fearing Che cazzo? Bolla? Bolla 900 metri all'impatto F5 Cioè ho messo la fearing Proprio per evitare che i razzetti Vadano a bruciare Il resto Perché poi metti che su ev I razzetti non funzionano veramente Come dovrebbero Metti cazzo Il coso ricade Almeno ricade sulla fearing Che è un guscio protettivo 500 metri Il coso ricade Guarda quanta scienza Che poi neanche tanto Rilevazione pressione atmosfica 72 Cazzo siamo su ev Vai momento Momento Ridurre al minimo l'impatto Ridurre al minimo l'impatto Grazie a tutti Ah, guarda Light Shield che è rimasto integro Come è possibile? Ah, forse perché ha Ha glidato parecchio Oh, morbidissimo Adesso vedrai Sicuro, sono in fianco a dove deve Beh, c'è da piangere Allora fammi salvare Salva Landed Rover If 1 Rover Ehm Infatti Voleva si dimostrare Meno male che ho lasciato lo scudo Oh, cazzo Adesso Stendi antenna Stendi antenna I pannelli solari Con cosa abbiamo messi con? Niente Quindi facciamoli con 6 Quindi facciamoli con 6 Ok Grazie Grazie No, vorrei che poi va a influire Allora Ora Dobbiamo sperare che questo non esploda Bloccata No Bloccata No Il tasso era Zero Ok Ok Ehm Locata No Sgancia Estensione obiettivo E ce l'abbiamo Ora torniamo sul nostro E che cazzo Per ogni volta che devo fare qualcosa Devo Ridurre le bubble E che cazzo Ora bisogna sperare di non esplodere male Quindi F5 Togliamo dall'ibernazione E mi sono incastrato Ma si sono rotte le ruote Ma come? Ma davvero? Ma lui non è studiato No vabbè ma non ha senso Non le ho toccate Scusami Ma vuole capire se erano già rotte Oppure le ho rotte io adesso Adesso salta in aria Spero di no Tutto buggato? Siamo pronti? Sì Un po' di bolle Save 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 Ok Allora io Parcheggio giù il rover Ok Ma in realtà è già parcheggio Ah forse le ho proprio rotte io Allora togliamo lo sterzo A questa qua Si è attivato Ma dai ma che stronzata è Ma no ma perché è buggata quella parte lì sicuramente Cioè guarda qua ho saltato addirittura non si sono rotte Ho toccato la cosa qua si sono spaccate Vabbè ma questo non mi interessa Io lo fixo e vaffanculo Eh scusatemi eh I bug io non li accetto in questo modo Tutto lo sbatti che ci siamo fatti vedere fino a qua Ma ho per una stronzata del genere Eh no scusate eh Non mi sembra Non mi sembra corretto Ok Sì Eve che è buggata Quello sicuro Senza dubbio Ora abbiamo semplicemente Velocizzare un po' Qui c'è sempre sul saltino no Questa Quella possiamo essenderla quando ci serve Pregato per lo screenshot Ok È un po' Un po' scuro ma Ora facciamo degli esperimenti anzitutto Osserva Melma Solo 80 punti scienze così Ma perché lui Gli va così no Registro i dati sulla gravità 160 Che poi non ci daranno un cazzo perché Ci daranno solo 44 Dati sismici Beh Questo non male Ah pressione 67 Non ci dà tantissimo È più che altro per la gloria Che siamo qua Alla fine Ok ora questi qua potremmo Tecnicamente Trasmetterli con questa antenna Ma non abbiamo abbastanza batteria Secondo me Quindi questa La chiudiamo così Dovremo più che altro Cercare una Una feature Su Eve Tipo forse Uno di quei sassi là Da analizzare con il nostro Con il nostro braccino Che bank a parte È un È un brutto buon lender Dopotutto E quella potrebbe essere Un feature Da analizzare Potrebbe Non sono sicuro Ma potrebbe Sì sembra di sì Un po' buio qua I campi di cotone I campi di cotone Di Eve Sì è una feature Da analizzare Questa Ah forse c'è un'altra cosa Che mi ho dimenticato Ok Scansione Farum Ma solo 160 Salta Really Ok Il farum ce l'abbiamo Adesso dobbiamo tornare La nostra navetta Che non so più dove è finita Cazzo Sarà indietro A questo punto Tanto questo Diamogli il nome Tanto fermati Prima che esplodiamo Rinomina veicolo Lo chiamiamo Rover Eve Explore Eve Explore Eve Explore Uno Così Forse riesco a individuare L'altro Posso Un brisaglio Ok Andiamo Però il problema è che non lo vedo Quindi Oh Eccolo lì Con F4 Se vi capita Per caso Attivate E disattivate La visualizzazione Dei Oggetti vicino a voi Con il quadratino Quindi vi dice Quanto vi manca Adesso facciamo un test Di questa roba qua Sicuramente si spaccheranno Di nuovo le ruote Che non ha senso Di suonare su Eve Con la gravità Della madonna Tocchi una Una batteria Esplodono Tra l'altro top Perché Comunque La viaggia particolarmente bene E abbiamo anche Tutto un bel segnale A disposizione Non male Perché questo Riceve segnale Quindi riesci A trasmetterlo Al rover Con ste cazzo Di bubble Ecco Adesso ci sarà Da ridere Con Con questo affare qua Salva Salva E poi Ha una sensibilità Nell'accelerazione Che è qualcosa Di imbarazzante Ecco Ecco Ma dai Io non ci posso credere Sono questi Cosi che sono Paggati Vedi Facciamo così Carica Devo bloccare Quella roba lì Io dicevo Che le robotiche Sono la merda Sono la merda Perché continuano A fare queste cose qua Quindi quando tu le piazzi Devi bloccarle Quindi per quello Che mi spaccavo le ruote Sarà un po' difficile Non fare spodere niente Infatti lo sempre evitate Per i rover Fermo Fermo Perché ogni volta Ste piante si spostano Ok Grazie Così magari vedo Che cazzo sta succedendo Qua Torniamo Sul Belli Portacci tua Però Sull'ender Qua Blocca La Devo bloccare L'altra Che adesso Non la trovo più Cioè devo bloccare Prima sollevare Leggermente Ok Bloccata Ok Non cambierà nulla Ma Noi ci proviamo Lo stesso Un po' Cazzo di Foglie Barazzante Allora facciamo così Per rientrare Dato che questo è un problema Di bug Non tanto tecnico Io mi cito Che questo Cosa è indistruttibile Sicuramente me lo spedirà In un'altra dimensione Con una forza disumana Già me lo sento Ma poco importa Allora Tac E andiamo Vede che si ribella Testina di cazzo Non vuole farmi salire È assurdo Non vuole farmi salire Vado in retro Allora Questo è il problema Delle Troppo si rifiuta Categoricamente Che cazzo Però Devi mollare Ok Ma se io vengo Un po' Aggressivo Si è riuscito A rompere Una parte Che non era Facile da rompere Tra l'altro Ma non è il passo Delle ruote Woods È proprio Che le parti robotiche Fanno cagare In Kerbal E Con un microtocco Mi esplode il buggy Cioè il rover Vibrano queste parti robotiche Cioè ti sfiora una ruota Una disfra Basta È come se generasse Una forza Allucinantemente Forte Oh Oh Houston abbiamo un problema Si rotolo da dio No le parti robotiche sono Io ve lo giuro Se potete evitare Su un lander Evitatelo Evitate Fa laggare il gioco Fanno esplodere le cose Ti trovi Sparato nell'iperspazio Come è successo prima Lasciate stare Io ho tutto Cioè Indistruttibile Poi le ruote slittano Come se fosse Non so che cazzo C'è dentro Boh Ci mettono un'ora Per prendere il comando Mettiamo controllo di trazione A manetta Che devo fare io Poi sto Minchia di cosa Continua a resettarsi ogni volta che faccio qualcosa Allora Ok Con un po' di buone maniere Ce l'ha fatta Forza tracco A manetta Facciamo scendere questo Ci siamo Lo riesce a sollevare Un po' di fatica Però ce la fa Bloccata Ok Abbiamo pure Comprato il rover Guarda quindi Ad avere abbastanza Carburante Poteva anche tornare a casa Intero Così com'è E' un ottimo sistema Se volete fare un lander Questo va benissimo A parte sta merda Delle robotiche Che è terrificante Comunque Parallax bella Però tutta sta roba Veramente ti fa Vivere male Sta fuffa buttata qui Non riesce neanche a capire Cosa sta succedendo Vediamo di trasmettere Sta roba F5 Per favore Io queste Precauzionalmente Le chiuderei Ok Ok Col tasto 0 E Le blocco Se il gioco Me lo prende Mamma mia Che difficoltà Ragazzi Ogni volta Fare queste cose Cioè Ho una pianta Che mi evita Ok Questo è bloccato Quindi adesso Dovrei riuscire a bloccare Anche questo No Questo non si vuole bloccare Va bene Lasciamolo così Quindi adesso potremmo Anche trasmettere In teoria Gli esperimenti Come siamo messi Come campo Lo voglio Ne abbiamo di campo Quindi Rivedi i dati Purtroppo Trasmetti quello che puoi Inizio trasmissione Tan 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 Fatto Miche è stato veloce Però Molto buono Rivedi i dati In realtà lui dovrebbe usare questa Ma vabbè Lasciamo rifare le sue cose Rivedi i dati E trasmetti Eh sì Questa è una buona idea Perché comunque Hai un sacco di Batteria a disposizione Trasmetti Qualc'altro dobbiamo trasmettere Questo Questo Ah questo Ha questo qua il breccino Rivedi l'apporto Trasmetti questo Fatto Ok abbiamo trasmesso tutto ragazzi Direi che siamo Siamo a posto Possiamo Finirla qua Andiamo sul Centro spaziale Vediamo quanto Abbiamo portato a casa Non tanto Perché ovviamente Se non hai una missione Con un equipaggio Non porti a casa Chissà che Facile Ma in realtà Era più facile Quello che sembrava È solo che Mille problemi Tra Vegetazione Ruote che si Buggano Insomma Non è proprio Il massimo Beh Giusto giusto Per sbloccare una cosa No Stazione di stracciamento Devo andare Nella Nell'altra Guarda quanta Merda Che c'è in giro Mi cerca il sviluppo Con calma Ok Possiamo sbloccare qualcosa Con 5,50 Quindi qualcosa di grosso Eventualmente Eh Monopropellente Non so cosa sia Questo potrebbe essere Cono per la scansione Topografiche Braccino un po' più grosso Landing gear grosse Scuro termico grosso Questo non so cosa sia Procedure light shield Non ci interessa Eh Questo potrebbe essere Interessante Perché abbiamo così Tutte le Le cisterne cicciotte E Anche No beh Questo in realtà Non ce ne frega niente Questo Mille addirittura Eh Scienza sperimentale Cos'è sta roba Ah Sono lì Or Praticamente Hortank Grandi sonde Roba praticamente Inutile Ok Roba inutile Batteria procedurale Batteria grossa Non lo so Cos'è che si potrebbe Sbloccare Questa roba qua Forse 300 Però Ah ah Sì Insomma Possiamo sbloccare Una di queste Con queste Con queste Potremmo avere anche Le cose dello shuttle O perlomeno Questa Questa Sì ci potrebbe essere utile Quindi questo praticamente Sblocca lo shuttle Eh Questo invece sblocca Delle cose un po' più grosse Per le ruote Questo invece no Eh Non lo so Sono un po' indeciso Tra questo qua Tra 300 Che ci da anche Braccione grosso Anzi in realtà Questo non ci interessa Per niente Che solo se vuoi fare Un atterraggio per il mining E quant'altro Allora ha senso Altrimenti no Eh Questi due Potrei anche sbloccarli insieme Volendo Uno Due Sono 320 No Sì 320 E Però poi non abbiamo abbastanza Per il resto Ah ok Thank you All the pressure Eh Non lo so Non lo so Non lo so Non lo so I don't know I don't know Penso che questa sia la migliore Per adesso Cioè in realtà Anche questa qua Le tanche grosse Qua ci sono le parti per Lo shuttle Ma per adesso Non dobbiamo fare lo shuttle Quindi non è necessario Quindi Addirittura Nano tornitura Cosa Un adattatore Cioè renditi conto Che questa cosa non ha senso 550 Per queste due stronzate Quindi o questi qua Che sono quelli grossi Oppure questo qua Dello shuttle Io direi a sto punto Questi dai Belli cicciotti E via Ci sono rimasti 51 punti scienza A posto ragazzi Abbiamo fatto E ok Nella prossima Live direi di Andare a Che sarà la 10 Potremmo andare a fare una missione Molto lontano Quindi o Su late Magari O su qualche luna Di Joule Per esempio Oppure puntare direttamente Su elu e tornare indietro Tutto con moto nucleare Perché sennò veramente Rinta è infattibile Poi quello lo vedremo Per il momento io vi ringrazio Grazie a tutti quelli che si sono Followati A chi si è sappato oggi Di cui Aspetta Il nome è Figolla Figolla Grazie mille Grazie mille Ci vediamo alla prossima Buonanotte Buona cena a tutti quanti E buon rientro A scuola A lavoro